Vi do il benvenuto alle persone che sono qui in presenza a Padova e anche a chi ci segue da remoto. Io mi chiamo Alessandra e collaboro con Melting Pot ormai da un paio d'anni. Come sapete l'oggetto dell'iniziativa formativa di oggi è la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato. Sappiamo che le tempistiche sono molto limitate, cercheremo però di darvi una panoramica generale portando l'esperienza sul campo dei nostri relatori. Prima di presentarveli vorrei fare una piccola comunicazione e da poche settimane Melting Pot ha lanciato una campagna abbonamenti che è su base volontaria. Quindi ci tengo a primettere che i contenuti del sito non saranno mai riservati, continueranno ad essere liberamente accessibili e gratuiti. Tuttavia per chi volesse dare un contributo per aiutarci a migliorare, per rendere la nostra informazione ancora più di qualità è possibile farlo e trovate comunque tutte le informazioni sul sito meltingpot.org. Non ruberei altro tempo, passerei a presentare per ordine di intervento i nostri ospiti, l'avvocato Marco Paggi del Foro di Padova, socio di ASGI, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, e la dottoressa Giuseppina Di Bari, operatrice socio-legale nel progetto Navigare. Un'altra piccola informazione tecnica, faremo una piccola pausa nel mezzo, quindi tra un intervento e l'altro, e riserveremo uno spazio di una mezz'oretta per le domande, insomma le vostre curiosità, anche per chi ci segue da casa è possibile lasciare un commento in chat. Direi che possiamo cominciare, lascio subito la parola all'avvocato Paggi, che affronterà la tematica da un punto di vista prettamente giuridico, illustrandoci la normativa vigente e soprattutto quelle che sono le difficoltà applicative. Prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ho preparato delle slide, in realtà non ci sarà il tempo per illustrarle tutte quante, quindi andrò a salti letteralmente, che poi comunque lascio a disposizione per chi volesse utilizzarle come appunti o promemoria. La prima slide che vedete nello schermo cita un rapporto del Greta, che è un organismo di esperti istituito al Consiglio d'Europa, che si occupano di tratta e sottamento lavorativo e dal loro angolo di osservazione risulta confermato che i casi di tratta e sottamento grave e sottamento lavorativo sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni. Cito anche i dati, non cito i numeri, ma cito anche una recente pubblicazione del numero verde antitratta, che ha fornito i dati aggiornati sulla casistica segnalata. In base a questi dati, ma appunto i dati vanno interpretati, perché sennò sono forvianti, in base a questi dati i casi di sottamento lavorativo giunti a segnalazione, sottolineo, sarebbero ancora oggi in quantità inferiore rispetto ai casi di sottamento a scopo sessuale. Ora, è chiaro che se un pescatore va nell'oceano e torna senza aver pescato neanche un pesce, potrà anche dire che l'oceano è senza pesci. Qualcuno potrebbe chiedersi se invece è capace di pescare. Ecco, lo stesso tipo di considerazione può valere per i casi di sottamento lavorativo. Il problema vero è che sullo sottamento lavorativo non c'è una capacità di intervento adeguata e non ci sono presupposti che favoriscono le denunce. Vedremo brevemente, purtroppo nel corso di questo incontro, come una serie di problemi ostacolino concretamente l'applicazione della legge. e più ancora che le lacune della legge, i problemi proprio di applicazione della legge stessa da parte delle istituzioni competenti sono determinanti nella quantità che poi si produce e che ancora è molto scarsa rispetto alla dimensione del fenomeno che è enorme e che non riguarda soltanto, come direbbe la vulgata, che sull'Italia, Rosarno, Cassibile, Foggia, eccetera. No, riguarda tutta l'Italia. Possiamo dire sin d'ora che la casistica di sottamento lavorativo ormai è un sistema radicato, diffuso e gestito serenamente in tutta Italia. Noi abbiamo sottamento grave in agricoltura, non solo a Rosarno, ma ce l'abbiamo anche a Saluzzo, ce l'abbiamo anche sui Colli Ugani e qui, ce l'abbiamo anche in tutta la Padania per quanto riguarda il settore vitivinicolo e parlo solo di un settore, quello agricolo, di un segmento del settore agricolo, ma in realtà la casistica di sottamento c'è anche in edilizia, c'è nella logistica, nel lavoro domestico che rimane e continua a rimanere sommerso quando anche vi siano situazioni di vera e propria riduzione in schiavitù, nei servizi, nel terziario. Lo sottamento è uno schema che è sempre più diffuso anche perché, lo dico senza voler necessariamente colpolizzare una norma, ma perché il sistema di sostanziale liberalizzazione degli appalti delle cosiddette esternalizzazioni favorisce ampiamente questa possibilità. E rende difficilmente controllabili i fenomeni di sottamento, al di là poi della volontà politica e amministrativa più o meno sincera nell'intervenire su questi fenomeni. Detto questo, andiamo avanti perché il tempo è poco, la nozione di trafficking, ovvero di tratta, viene concepita nel 2000 nella famosa conferenza di Palermo che poi ha dato luogo successivamente a una convenzione, sua criminalità organizzata e poi alla prima e alla seconda direttiva sulla tratta. Quindi dedicata al concetto di trafficking. Per trafficking, la definizione è stata adottata e poi mantenuta in modo conforme le norme che ho citato successivamente, per trafficking si intende reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o l'accoglienza di persone tramite l'impiego, la minaccia, dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità, o tramite il dare o ricevere somme e denaro, questo soprattutto per quanto riguarda i minori, o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su altra a scopo di sfruttamento. Riguarda sia lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, ma anche lo sfruttamento di lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù e le pratiche analoghe. Il concetto di trafficking è collegato intanto a una dimensione trasfrontaliera. Trafficking esiste se le persone vengono in qualche modo spostate da un paese all'altro. Non esiste un trafficking interno al territorio nazionale. All'interno del territorio nazionale avremo situazioni definibili come di sfruttamento, di riduzione in schiavitù, quello che volete, ma non appartiene allo sfruttamento interno al concetto di trafficking. Il concetto di trafficking è proprio riferito alla dimensione transnazionale. Il che vuol dire che si dovrebbe verificare, per applicare la sanzione penale, quello che è successo nel paese di provenienza e quello che poi è successo nei paesi intermedi se la persona è stata trasferita, per esempio non casuale, dal Pakistan o dal Bangladesh alla Libia e poi dalla Libia all'Italia. Casistica che abbiamo visto un sacco di volte. Questo è uno dei primi problemi per identificare giuridicamente la condotta ai traffichi e poi nel caso tipico della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo c'è poi il problema di dimostrare che vi è stato un abuso di una posizione di vulnerabilità o addirittura l'uso di forme di coercizione e violenza o minaccia. Per un tipico caso di abuso o addirittura l'uso di forme di coercizione e violenza o minaccia. Per un tipico caso di abuso la posizione di vulnerabilità, ed è un caso che spesso viene all'attenzione anche delle commissioni sulla protezione internazionale, è quello della persona che contrae il famoso debito. Anche per arrivare a scoprire che c'è stato questo famoso debito spesse volte tocca insistere per estrapolare dall'interessato un racconto coerente, perché c'è molta ritrosia a spiegare come vanno le cose, ma poi c'è anche, avverto che questo è un aspetto molto importante, purtroppo, perché è un problema in più, c'è anche un problema di diversa percezione culturale dello sottamento. In lingua cinese non esiste il corrispondente di sottamento. Molti cittadini che di fatto, o quantomeno secondo la mia opinione, sono vittime di tratta vera e propria, della più bell'acqua, come si potrebbe dire, ti raccontano che un amico li ha aiutati, riferiscono di un aiuto. Mi è capitato una volta di avere un incontro con un pullman di bengalesi che erano stati appena consegnati a una struttura di accoglienza, prima ancora che costoro arrivassero, due giorni dopo l'urbarco, si era già presentato un signore tutto in gioiellato come la Madonna e il Loreto, loro con un nazionale, che gli aveva preceduti e proponeva al gestore della struttura di accoglienza di prenderseli tutti in carico gratuitamente senza pesare sulle casse pubbliche perché ce li avrebbe sistemati lui. Sapeva già che stavano arrivando. E guarda caso queste persone venivano tutte allo stesso villaggio del Bangladesh e guarda caso erano andate tutte a lavorare in Libia e guarda caso hanno preso due barconi uno dietro l'altro lo stesso giorno e sono arrivate in Sicilia lo stesso giorno. Per me questo era un fenomeno di tratta della più bell'acqua, però vi assicuro che riunendo tutto questo pullman di persone, il massimo che siamo riusciti a cavarne è stato che hanno avuto tutti un prestito da un amico e basta. E questo amico era proprio un amico. Chiaramente il mio sospetto, ne penso anche di comunque altro, era che tra quelle persone vi fosse un certo timore nel raccontare questi fatti e che probabilmente tra di loro c'era almeno uno, se non di più, che avrebbe fatto la spia ai referenti superiori su eventuali dichiarazioni inopportune. Ecco che quindi non si è andati oltre quel punto. Ma sappiamo che invece la realtà è ben diversa. Il problema è che però queste persone se un giorno denunciano la tratta vera e propria, reato che peraltro comporta una sanzione penale molto grave, avranno da fare i conti a casa, avranno delle famiglie a casa che saranno verosimilmente sottoposte a minacce, ritorsioni, eccetera. Senza contare poi che tutta la parte istruttoria di condotta di questo genere incontra un limite non meno importante dato dalla difficoltà, e uso questo delicato eufemismo, di ottenere la collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia dei paesi d'origine, che spesso si riferisce, ci viene riferito anche nel caso di cui ci siamo occupati recentemente, sono molto sensibili alle attenzioni e anche alla riconoscenza che invece i caporali o i loro sottatori, cioè insomma gli organizzatori, riescono ad esprimere concretamente nei loro confronti. Ecco, usiamo questa espressione elittica. Quindi è chiaro che di tratta, noi vedremo casi di tratta, scopo per sottamento sessuale, perché come dire, l'iter, diciamo così, che si segue per sottare, per avviare l'assottamento della prostituzione delle donne, anche uomini talvolta, è un iter completamente diverso rispetto alle dinamiche dell'inserimento lavorativo. E quindi lì abbiamo effettivamente casi, pronunce giudiziarie di tratta. Ma se andate a cercare pronunce giudiziarie in tema di tratta relativa all'assottamento lavorativo non troverete nulla. Forse c'è un caso di un circense, mi pare un caso assolutamente rare fatto, ma normalmente tratta, scopo di sottamento lavorativo, esiste, è sulla carta sanzionata dalla legge, ma di fatto non viene perseguita. E le vittime di tratta, come si dice volgarmente, mi permetto di usare questo tema, non se la cantano, non raccontano la piena verità, magari capiscono che tu la capisci, ma non sono disponibili a denunciare. A questo proposito, apro una piccola parentesi perché mi viene in mente ora, forse poi rischio di dimenticarlo, il problema degli avvocati, perché è un problema che ho vissuto più di una volta. Arrivano i casi, ti presentano la persona o le persone, ti raccontano tutto le cose come stanno, quando ti raccontano tutto come sta, e però poi dicono che non vogliono denunciare. E quante volte è successo? Io come avvocato, ma non io, qualsiasi avvocato, nel momento in cui non ha mandato di denunciare, non può utilizzare quelle informazioni per denunciarle all'autorità giudiziaria, perché viola un preciso dovere professionale. Diversamente invece l'operatore dell'ente antitratta, piuttosto che l'operatore sindacale, l'operatore del terzo settore, l'operatore dell'accoglienza, non ha un dovere deontologico di questo tipo e di fronte a un rifiuto di denunciare può anche decidere di segnalare in proprio all'autorità giudiziaria le informazioni che ha acquisito. È una scelta personalissima, c'è chi poi potrà dire che per motivi di deontologia sindacale per esempio non si può fare una cosa del genere perché tradisci la fiducia che il lavoratore ha riposto, c'è chi la pensa diversamente e qui ognuno si prende le sue responsabilità. Dal punto di vista giuridico non ci sono limiti, i limiti ci sono per l'avvocato, non ci sono invece per chiunque altro voglia segnalare e secondo me in molti casi in cui queste situazioni vengono lamentate, segnalate ma poi non denunciate, forse sarebbe il caso che veramente si cominciasse a denunciare a prescindere dal consenso della vittima. Molto spesso le persone decidono di non denunciare perché tutto sommato ha ragione, mi tocca dire purtroppo, comprendono che dalla denuncia non potranno trarre concretamente nulla di utile per sé, non potranno avere giustizia e mi tocca dire che purtroppo molto spesso hanno ragione, perché i tempi di gestione di queste denunce più tanti altri problemi che tenterò adesso di elencare di seguito, rendono francamente poco percepibile l'utilità della denuncia. Quando un gruppo di lavoratori dell'Unione Europea, impiegati in agricoltura e pagati 4 euro l'ora, viene a denunciare la situazione e si comincia a spiegargli che, vabbè, loro non hanno interesse ad avere un permesso di soggiorno perché non ne hanno bisogno, sono liberi di circolare e stabilirsi, l'unica cosa che gli interessa è essere pagati, ma quando si comincia a spiegare che gli accertamenti richiederanno un certo tempo, che successivamente agli accertamenti e con l'esito degli accertamenti sperabilmente positivi si potrà fare una causa e che a sua volta la causa durerà qualche tempo e che forse nel frattempo chi li sta sottando, essendo organizzato per non avere niente da perdere, sparirà o sarà comunque insolvente, beh, insomma, anch'io al posto loro direi allora che denuncio a fare, continuo a lavorare per questi, almeno conservo la speranza che mi paghino, perché l'interlocutore che sta dietro alla scrivania, che so del sindacato, dello studio legale, eccetera, non mi sta proponendo giustamente niente di appetibile. E questo è un grosso problema che sta a monte e che determina quelle quantità rarefatte che poi vengono scambiate come un dato assoluto e che si rischia di scambiare come un dato assoluto e oggettivo. Appunto ho già citato l'ultima direttiva del 36 2011 in materia di tratta, non c'è il tempo per approfondire questi aspetti per cui vi lascerò a disposizione eventualmente le slide. A seguito appunto della prima direttiva del 2004, sempre in materia di tratta, viene definito reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Quindi abbiamo il reato di tratta, articolo 601 del codice penale, poi abbiamo il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Anche questa è una norma che in ambito lavoristico, quindi lasciamo perdere altri ambiti di sfruttamento, se si può sono ancora più biechi, ma in ambito lavoristico questa norma è applicata rarissimamente, perché effettivamente ciò che si richiede ai fini dell'applicazione di questa segnale penale, che è molto pesante, è appunto che vi sia da parte della vittima uno stato di soggezione continuativa, cioè non basta essere vessati o essere anche vittime di comportamenti violenti e di sfruttamento, ma bisogna proprio che la libertà personale sia decisamente limitata, che non vuol dire che la persona deve essere ridotta in catene e sempre legata a un termosifone quando non sta muovendo le braccia per lavorare, ma non vuol dire nemmeno che non possa talvolta mettere il naso fuori dalla porta o dal cappannone, ma vuol dire che si tratta di una persona che è sotto il costante controllo del datore di lavoro, che ne determina i ritmi di vita, il tempo di vita, le attività che si possono fare e che le limita fortemente. Ecco, di fronte a questa palese e concreta compressione della libertà personale, ecco che abbiamo il reato di riduzione in schiavitù o servitù, che è la nuova forma. Ma, ripeto, in ambito lavorativo è piuttosto difficile che si realizzi una condotta di questo genere e, per la verità, anche l'autorità giudiziaria è prudente nell'applicare questa norma perché comporta anche una sanzione penale molto pesante. L'articolo 601 abbiamo già detto che cosa comporta la definizione di trafficking è sostanzialmente ripresa nel codice penale dalla definizione che era data già dalla Convenzione di Palermo. E appunto questa è una norma che vedremo di fatto applicata molto poco, anche se in realtà sarebbe da applicare molto spesso se soltanto gli interessati si determinassero a raccontare tutta la storia. Fossero rassicurati, non si sa come, sulla incolumità per le loro famiglie che stanno ancora in patria. Fossero rassicurati sulla possibilità, nelle more della denuncia, anche di lavorare e mandare, come si suol dire, qualche soldo a casa perché sono qua per mandare i soldi alle famiglie, mica per scherzare o fare denunce per sport. E se fossero rassicurati sul fatto che poi vi è un'effettiva cooperazione da parte delle autorità del Paese di provenienza nel sanzionare questi comportamenti. Tutti i presupposti che sono difficilissimi da riempire contemporaneamente. Nello strumentario delle norme di tutela dallo sfruttamento vi è anche la direttiva 52 del 2009 che è dedicata allo sfruttamento lavorativo delle persone prive di permesso di soggiorno. Ed è una norma che, assieme poi al famoso articolo 18 del testo dell'immigrazione dedicato al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, consente di regolarizzare la situazione di soggiorno irregolare di persone che sono vittime di varie condizioni di sfruttamento. Vi sono però in queste due disposizioni dei profili nettamente distinti che andremo a verificare. Prima di approfondire questa panoramica è giusto premettere che il nostro ordinamento non è, anche prima di queste direttive, le norme sovranazionali, non è digiuno da norme a tutela di lavoratori. Un giurista deve rispettare il principio della gerarchia delle fonti e quindi per prima cosa dovrebbe citare l'articolo 36 della Costituzione che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del loro lavoro. Tutti i lavoratori, non i cittadini. Quindi questa norma garantisce di per sé, quantomeno dal punto di vista retributivo ma anche previdenziale, un principio di parità di trattamento. Peraltro il principio di piena parità di trattamento è sancito anche dalla Convenzione 143 del 75 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che peraltro stabiliva principi di questo genere ancora prima la 97 del 1949 a tutela di nostri lavoratori italiani che andavano a lavorare all'estero soprattutto nelle miniere in Belgio senza garanzie e licenziati quando si ammalavano di silicosi. E d'altra parte l'articolo 10 della Costituzione garantisce la condizione giuridica dello straniero come regolata da legge in conformità agli accordi trattati internazionali cui l'Italia abbia dato adesione. Quindi per questa via c'è un richiamo anche della Costituzione della vigenza di questa Convenzione e di altre convenzioni internazionali. Poi abbiamo le norme del Codice Civile che risalgono al 1942 che però garantiscono alcune forme di tutela basilare per tutte le forme di lavoro nero non solo naturalmente per gli stranieri. L'articolo 2126 del Codice Civile prevede un principio chiarissimo di garanzia per ogni lavoratore che abbia svolto attività lavorativa in violazione di norme imperative quindi detta in parole povere lavoro nero senza contratto, senza denuncia, senza niente. Comunque nonostante per legge il contratto sia non valido perché non validamente instaurato anche nel caso di lavoratore privo di permesso di soggiorno ben inteso il diritto comunque di recuperare il salario dovuto o le differenze salariali quindi la differenza tra quanto di fatto percepito e quanto invece dovuto da calcolarsi in base alle tabelle salariali dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative quindi il diritto di fare vertenza in altre parole per recuperare i propri soldi anche se si è irregolari senza permesso di soggiorno. Un analogo diritto che è riconosciuto pacificamente alle persone irregolari è il diritto alla tutela previdenziale e infortunistica. L'articolo 216 del Codice Civile sancisce il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali per cui indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro non abbia denunciato l'assunzione del lavoratore, non abbia versato i contributi e che non li versi mai perché è divenuto insolvente eccetera in ogni caso per il solo fatto che sia accertata la sussistenza e l'avvenuto svolgimento di una prestazione lavorativa devono essere garantite da parte degli istituti competenti le prestazioni come se il rapporto fosse stato regolarmente instaurato. Questa è una cosa ancora poco nota perché mi capita ancora di trovare qualche operatore che dice questo qui poverino ha avuto un grave infortunio sul lavoro ma sai è clandestino, non abbiamo potuto fare niente. Niente di più falso. Un cosiddetto clandestino, uso questo termine con le pinze perché sappiamo che criminalizza, un irregolare ha il sacro santo diritto di denunciare una situazione di lavoro irregolare di promuovere l'accertamento della prestazione lavorativa e di ottenere presso l'INAIL la rendita per invalidità temporanea la rendita per invalidità permanente, di fare le visite periodiche anche all'estero anche nel suo paese di origine eventualmente e addirittura di persepire la rendita anche nel proprio paese di residenza o di origine. E questo è uno strumento che va utilizzato perché contrariamente alla vulgata è un diritto che pacificamente si può applicare nei confronti anche degli irregolari. Anzi, l'accertamento dell'infortunio sul lavoro, oltretutto se poi l'infortunio ha dato luogo a una invalidità rilevante, può consentire anche la stabilizzazione del soggiorno di interessato sia quale vittima di sfruttamento lavorativo in base alle norme che vedremo fra poco ma anche quale semplicemente anche nel caso in cui non sia dimostrato lo sfruttamento lavorativo o l'intensità dello sfruttamento o non ci sia la volontà di denunciare fino in fondo i fatti e le persone perché poi c'è anche questo, ma in ogni caso oggi c'è anche lo strumento residuale del permesso di soggiorno per cure mediche, nel caso in cui la persona a seguito l'infortunio abbia necessità di prestazioni sanitarie che non potrebbe fruire adeguatamente nel proprio paese di origine. Quindi attenzione perché, come dire, gli infortuni sul lavoro, sempre che non siano ovviamente sbucciature dell'unghia o bagatelle, costituiscono un elemento di forte attenzione per chi si vuole occupare di tutela dei lavoratori immigrati e in particolare di quelli senza permesso di soggiorno. Abbiamo delle sanzioni generalmente previste per il lavoro nero, per il lavoro irregolare. C'è una sanzione penale che si applica molto poco perché è previsto soltanto a seguito di accertamenti ispettivi che si applichi questa sanzione penale, peraltro molto modesta, nel caso in cui vi sia una evasione contributiva per oltre il 50% del monte salari. Come dire, se ho 10 dipendenti, tutti della stessa qualifica e della stessa paga, e ne ho 6 in nero, ecco che scatta la sanzione penale. Ma è una sanzione che scatta piuttosto raramente anche perché non è facile beccare sul posto di lavoro nel momento dell'intervento ispettivo tutta questa gente senza regolare contratto, perché non sempre gli accertamenti vengono eseguiti con la tempestività sufficiente per congelare la situazione lavorativa. Poi c'è una sanzione amministrativa, viene volgarmente definita la maxi-sanzione per lavoro nero, che appunto si può applicare nelle situazioni di lavoro totalmente irregolare, è una sanzione puramente pecuniaria che naturalmente può intimidire chi ha qualcosa da perdere e non fa naturalmente paura a chi è organizzato per non avere niente da perdere. E' da notare che questa sanzione si può applicare per il lavoro nero in tutti i settori lavorativi e c'è un fatto per il lavoro domestico, perché il lavoro domestico non è svolto a favore di un imprenditore, ma è svolto a favore di un privato cittadino e in questo caso c'è una eccezione alla regola. Nel caso del lavoro domestico non solo non si applica la maxi-sanzione, ma nemmeno è possibile, è consentito eseguire ispezioni all'interno del luogo di lavoro. Quindi se anche io faccio una bella denuncia del rispettorato del lavoro dicendo io sono una domestica che lavora 14 ore al giorno in condizioni di schiavitù, mi fanno dormire nel sottoscala, per fare un esempio mica casuale, un caso dei tanti, l'ispettorato dice quella denuncia e dice vabbè tu dici queste cose però noi non possiamo venire a vedere. Certo, nel momento in cui l'ispettore di turno ravvisasse in queste informazioni o in questo esposto la notizia di reato attenente, reato di sottamento lavorativo, potrebbe, dovrebbe anzi non potrebbe perché è un obbligo, segnalare all'autorità giudiziaria, quindi la Procura della Repubblica, il fatto è che eventualmente dovrebbe poi, passa un po' di tempo, essere la Procura competente a disporre eventuali perquisizioni, intercettazioni, accertamenti, ma appunto con un'efficacia che è così diluita nel tempo non è detto che sia la stessa, ecco, anche perché oltretutto non è neanche detto che la vittima sia nella condizione di continuare a sopportare determinate condizioni fino a quando interverranno gli accertamenti, ecco. E poi appunto arriviamo alla direttiva 36 2011 sulla tratta e la direttiva 52 del 2009 dedicata allo sottamento. Ma prima di questo andiamo a vedere l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, questo arriva nel 1998 con l'approvazione del testo unico. È una, tutto sommato, una norma originale, cioè non nasce come imposta da norme comunitarie, nasce come concepita veramente dal legislatore nazionale. Per inciso, la turco napolitano aveva, la legge turco napolitano appunto che ha dato luogo al testo unico 286 del 1998, presentava degli spiragli di apertura molto interessanti, ma i più interessanti poi sono stati, come dire, rattrappiti nel tempo. Penso per esempio all'istituto dell'ingresso per ricerca lavoro che è stato sperimentato con successo e con valutazione anche positiva da parte delle questure per pochissimo tempo in quantità omeopatica e che poi è stato soppresso con l'entrata in vigore della rete Bossifini. Penso al progetto di legge originario che prevedeva il voto amministrativo per gli stranieri e che poi invece, quando è stato adottato il provvedimento nella sua versione definitiva, ha visto stralciare questa parte. Tanta timidezza quella volta da parte dei fautori della legge turco napolitano. Ebbene, l'articolo 18 però è stata una novità che ha dato luogo poi a risultati sorprendenti nell'ambito delle indagini sul sfruttamento sessuale perché ha prodotto effettivamente risultati e anche, come dire, con una apprezzatissima economia di risorse istruttorie. Detta in parole povere nel momento in cui la vittima del sfruttamento accetta di denunciare e quindi concorda a un appostamento della questura che per una serata vede che Costei si prostituisce sul tratto stradale tale, consuma dei rapporti ai clienti, incassa i denari, li consegna al cosiddetto pappone, ecco che in quel momento l'indagine è già impacchettata e chiusa, non c'è bisogno di altro, è molto semplice. Indagini sul sfruttamento lavorativo sono purtroppo molto più complesse, cioè c'è bisogno di raccogliere una serie di informazioni che sono molto più difficili da raccogliere e che richiedono anche più tempo per essere messi insieme. In una serata fortunata un'indagine per sfruttamento sessuale potrebbe quasi essere conclusa, o quantomeno il lavoro sostanziale è fatto e poi si tratta di dar luogo a una procedura. Nel caso il sfruttamento lavorativo è molto più complicato, ma poi soprattutto questo articolo 18 che prevede la possibilità di concedere un permesso di soggiorno alle vittime che poi è convertibile quindi in un permesso di soggiorno stabile a fronte di un programma di tutela e inserimento socio-lavorativo è un permesso che più difficilmente si può applicare alle situazioni di sfruttamento lavorativo perché la norma richiede per poter dare il parere favorevole su proposta o comunque con parere favorevole al pubblico ministero che indaga per il lascio di questo permesso richiede che si verifichi una situazione di pericolo per la vittima derivante, pericolo di violenza e di ritorsioni da parte di organizzazioni criminali e che quindi lo esponga a rischio di rappresaglie eccetera e che quindi deve essere valutato ai fini della tutela che gli permette di stare in Italia anziché tornare nel suo paese dove potrebbe invece essere vittima di queste ritorsioni. Ma appunto c'è un pericolo di violenza e ci deve essere un'organizzazione criminale. Ecco a me è capitato alcuni anni fa in corso la sanatoria, mamma mia, credo fosse quella del 2012, mi pare che fosse quella del 2012 o forse era quella del 2009, ora non ricordo francamente per andare a riguardarmi il fascicolo. Comunque in occasione un ragazzino molto coraggioso di poco più di 18 anni ha accettato di indossare una candid camera e di andare a gestire la sua contrattazione dello sfruttamento con il datore di lavoro. Il datore di lavoro che di fatto gestiva una cooperativa di servizi o una pseudo cooperativa di servizi. In questo video si vede perfettamente il datore di lavoro assistito alla segretaria che estrae da un cassetto una lista di nomi e di versamenti. E dice bene, tu per avere la sanatoria, che il datore di lavoro sarebbe obbligato a promuovere a spese proprie, per avere la sanatoria tu erano d'accordo, dovevi pagare 5.000 euro, dunque hai già pagato i 1.500, adesso me ne dai altri 500 che trattengono la tua paga di questo mese e dunque ne avanza ancora 3.000. E si vedeva questa bella contrattazione. Questa videocassetta è stata recapitata in Procura della Repubblica che per la verità ha disposto tempestivamente una perquisizione, come si dice, chirurgica, a vedere esattamente quel cassetto, hanno trovato tutta la contabilità con i nomi e tutti i lavoratori, si è poi verificato nel corso di indagini che erano 92 lavoratori taglieggiati e a quel punto mi sono recato dal Procuratore, fra l'altro accompagnato dal segretario della Camera del Lavoro, facendo presente che questo ragazzo coraggioso meritava un parere favorevole ai sensi dell'articolo 18 e quindi un permesso di soggiorno. E il Procuratore, teniamoci, la mia non è una critica, è solo, faccio questo esempio non per criticare quel Procuratore, ma per raccontare come non sia così pacifica l'applicabilità dell'articolo 18 a tutta la casistica che a noi verrebbe in mente. E in effetti il Procuratore ha aperto la norma, ha letto, timore di violenze, organizzazione criminale, ha letto qua. Sì, certo, questo qui è uno sfruttatore, è un bandito, ma non è un criminale professionista, non esprime una potenziale di rappresaglia percepibile. Di sicuro non è un'organizzazione criminale, è un fai-da-te. Sì, è stata indagata anche la segretaria per concorso del reato, ma non eravamo certo in presenza di un'organizzazione criminale. Quindi ho recato qua, rischio di violenza non c'è, organizzazione criminale non c'è, mi spiace, è meglio nulla osta, non glielo posso dare. Quella volta poi fu, grazie a una soluzione creativa dell'allora dirigente dell'ufficio di migrazione, che l'interessato riuscì a ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, per essere tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria e successivamente, complice del decreto flussi, è riuscito a stabilizzare la propria posizione di soggiorno, ma gli è andata bene, diciamo. Ma ho raccontato questa vicenda, ripeto, non per contestare il sostituto procuratore, anzi il procuratore del momento, ma per esemplificare che l'articolo 18 non è la panacea di tutti i mari. Vi è invece un'altra norma che è stata adottata a seguito del recepimento della direttiva 52 del 2009, direttiva che è stata recepita nel nostro sistema giuridico tardivamente, quando già era stata avviata una procedura di infrazione proprio per inarempienza, e che è stata recepita col decreto legislativo 109 del 2012, eravamo sotto il governo Monti. Sì, sì. Questa direttiva è stata recepita, lo dico subito, in quantità omeopatica rispetto a quelli che sarebbero i precetti contenuti nella direttiva stessa. L'aspetto più qualificante, quantomeno dal nostro punto di vista della direttiva, è quello della previsione del rilascio di un permesso di soggiorno alle persone vittime di particolare sottamento lavorativo. Intendiamoci, questa direttiva non è stata fatta con l'intento benefico di regolarizzare tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul presupposto che siano tutti sottati, il che sarebbe anche vero. Ma è stata fatta sul presupposto invece di scoraggiare da parte delle imprese dei Paesi membri dell'Unione Europea l'impiego di irregolari, in altre parole tentando di togliere il terreno sotto i piedi ai datori di lavoro che impiegano persone regolari e quindi di evitare o di disincentivare l'effetto attrazione di irregolari nel territorio dell'Unione Europea grazie al fatto che vi è un'ampia offerta di occasioni di lavoro anche nei confronti di persone senza permesso di soggiorno. Ed ecco che con questi presupposti, quindi non certo di apertura verso l'immigrazione, ma anzi di contrasto all'immigrazione irregolare, però si prevede che la vittima di situazioni in particolare di sfruttamento lavorativo che denunci e cooperi con l'autorità giudiziaria può ottenere un permesso di soggiorno. Anche in questo caso, nella norma di recepimento che è l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione a quale sono stati aggiunti dei commi aggiuntivi proprio per recepire questa norma, i commi dal 12 bis e seguenti, diciamo che di fronte alla denuncia, alla cooperazione da parte della vittima viene rilasciato un permesso di soggiorno su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica. Ecco che anche qui c'è una valutazione caso per caso e spesso questa valutazione caso per caso risente anche della interpretazione della norma, perché qui dobbiamo adesso, so che è un po' più barboso invece per chi non è addetto ai lavori, ma dobbiamo ragionare anche sul contenuto e l'interpretazione dei problemi interpretativi di questa norma. Molto velocemente vi dico che questa direttiva prevedeva anche altre forme di sanzione nei confronti degli imprenditori che occupano persone senza permesso di soggiorno a prescindere dal fatto che fossero in condizioni di sfruttamento particolare o meno. Per esempio ed è ciò che per quanto riguarda l'affrontamento dell'agricoltura avrebbe avuto un valore assolutamente strategico, per esempio prevedono, la direttiva prevede, ma la legge di ricepimento non ha preso in considerazione questo recetto, cioè questo vincolo dato dalla direttiva, prevedono appunto la sanzione della revoca o dall'interdizione da benefici o contributi pubblici, anche comunitari e pensate che il mondo dell'agricoltura senza i contributi comunitari sarebbe a terra letteralmente. E questa sanzione quindi sarebbe stata un fortissimo deterrente, ma anche in tradizione da appalti pubblici, per esempio pensiamo ad altri settori lavorativi come potrebbe essere l'edilizia piuttosto che la logistica, eccetera. E queste sanzioni non sono state introdotte nel nostro ordinamento. La direttiva prevede dei meccanismi agevoli per il recupero delle retribuzioni sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti dei Paesi membri. Nel nostro Paese sostanzialmente si è detto, beh vabbè ci stanno i sindacati, ci pensano i sindacati a recuperare i soldi per queste persone, ma attenzione, una cosa è dire facciamo un'avvertenza giudiziaria classica, eccetera. Altra cosa è che questo assicuri il recupero delle somme quando poi normalmente, normalissimamente, praticamente sempre i soggetti che svolgono l'attività di cosiddetto caporalato, intermediazione o gestione diretta della mano d'opera, che sia regolare o irregolare non fa differenza, sono persone che sono organizzate per non avere nulla da perdere. E spesso anche gli schemi che vengono utilizzati per realizzare queste forme di sfruttamento tengono conto proprio di questa compartimentazione del rischio, chiamiamolo rischio di impresa, che in realtà è un rischio di un'impresa criminale. Tanto per fare un esempio, una tecnica che vedo purtroppo più in uso recentemente è quella di non limitarsi a realizzare l'agricoltura attraverso un appaltatore, che sia una pseudo cooperativa o un'impresa qualsiasi, non fa differenza, che manda la mano d'opera e gestisce la mano d'opera sui campi. Ma perché questo comunque, anche se non si riesce a dimostrare che il proprietario dei campi gestisce direttamente la mano d'opera, come propri dipendenti di fatto, sarebbe in ogni caso responsabile insolido per le obbligazioni retributive e contributive in quanto appaltante. Negli appalti l'articolo 29 della cosiddetta legge Biagi del decreto legislativo 276-2003 prevede che sempre il committente o appaltante è responsabile insolido con l'appaltatore per le retribuzioni e i contributi dovuti. Sempre che l'azione sia svolta entro due anni dall'accessazione dell'appalto, vabbè, da parte che poi qui non c'è il tempo di parlare della Cassazione recente che peraltro abbatte di molto questo limite dei due anni nei casi in cui ci sono rapporti di lavoro somministrato in forma irregolare. La dico così perché di più non c'è il tempo di dire. Però se invece che esserci un appalto c'è un affitto di terreno agricolo, di fondo rustico, ecco che non c'è più nemmeno la responsabilità del committente. E se poi quel proprietario di campi che invece di essere appaltante è un affittante il terreno agricolo, guarda caso compra i prodotti agricoli raccolti su quel campo e se li vende per conto suo, di fatto realizzando lo scopo di avere l'attività manuale al prezzo che vuole lui e di avere i prodotti al costo aziendale che vuole lui per rivenderli dove vuole lui, ecco che non abbiamo lo schema giuridico della responsabilità solidale del committente o appaltante perché l'affitto di un'azienda non espone il proprietario del terreno a questo tipo di responsabilità, come pure l'affitto di un'azienda produttiva, di un'azienda manifatturiera. Anche questo è uno schema che la mia cara amica e collega napoletana mi ha segnalato come più moderno rispetto all'appalto di lavorazioni all'interno di un'azienda. Se invece che appaltare delle lavorazioni all'interno di un'azienda, per esempio nel settore tessile, tanto per fare un esempio di cui non abbiamo mai sentito parlare, è diffusissimo, se invece di appaltare lavorazioni interne ad un'azienda, io affitto l'intero stabilimento che sia un'azienda o un ramo di azienda non fa differenza, ecco che il formale titolare di quell'azienda affittata che esiste a mano d'opera risponde da solo. Il proprietario dell'azienda che l'ha affittata non avendo stipulato un rapporto di appalto ma semplicemente di affitto e quindi essendosi formalmente estragnato del tutto dal controllo della produzione e teoricamente non conoscendola nemmeno, ecco che non ha nessuna responsabilità. Attenzione perché invece la Corte Costituzionale ci ha detto di recente, un paio di anni fa, che invece cambia la situazione nel caso delle lavorazioni cosiddette conto terzi. In questo caso quando un'impresa affida un'altra la lavorazione di semi lavorati o di materie prime per eseguire dei lavorati tessili, giacche, camicie, borse eccetera, ecco che in questi casi la Corte Costituzionale ha detto che si devono applicare per analogia le stesse disposizioni che prevedono la responsabilità solidale dell'appaltante. Quindi l'impresa di grande firma che dà da fare al classico laboratorio cinese o italianissimo, perché non ci sono solo i laboratori cinesi che fanno queste cose, prima dei cinesi le facevano gli italiani e ancora adesso le fanno tanti italiani in concorrenza con i cinesi piuttosto che con i pakistani eccetera. Ecco, la classica impresa di grande firma che affida l'applicazione dei bottoni automatici e delle cerniere lampo sui jeans di propria marca a un laboratorio è responsabile in solido così come lo è l'appaltante di lavori eseguiti all'interno della sua azienda. Ecco, e questo ce lo dice la Corte Costituzionale. Ma, ripeto, oltre allo schema dell'appalto e della lavorazione contottercista, invece lo schema dell'affitto di azienda o di fondo rustico ancora non ha trovato soluzioni interpretative che permettano di affermare una responsabilità di chi di fatto offre l'opportunità di lavoro agli sfruttatori. Poi è anche vero che in linea puramente teorica uno potrebbe essere proprietario di un campo, affittarlo a una persona sconosciuta e non avere alcuna conoscenza o responsabilità dello sfruttamento. Il problema poi spesso sta nella qualità delle indagini, quanto sono più o meno approfondite le indagini. Ci siamo occupati qualche tempo fa di un caso su Corezzola, non parliamo di Rosarno, parliamo della Barsa Padana, in cui una schiera numerosissima di lavoratori indiani da anni veniva ingaggiata per lavoro stagionale in condizioni di sfruttamento bieco, in condizioni allosative immonde, da parte di due fratelli che, appunto, giravano in Porsche Cayenne, in gioiellati come a Madonna e Loreto, ma macchina in leasing, proprietà a zero, e avevano affittato questo grande fondo da un signore che gli operai vedevano anche passeggiare per i campi durante la giornata e dare un'occhiata a come andava. Però questo signore non interlocuiva mai coi lavoratori e quindi non si è arrivati a poter comprendere se questo signore di fatto aveva affidato a questi due fratelli il lavoro di gestione brutta della mano d'opera sotto la forma dell'affitto di fondo rustico e se poi questo signore in realtà si approvisionava completamente del raccolto e se lo commercializzava a condizioni da lui già predefinite. Le indagini non sono arrivate a capire questo, anche perché forse avrebbero meritato una maggiore spendita di risorse, tanto per cominciare nell'immediato, quando è partita la prima denuncia, il primo mediatore culturale che è stato utilizzato per tradurre le dichiarazioni dei denuncianti presso la locale stazione Carabinieri era uno dei caporali indiani, degli intermediari indiani e quindi insomma con affidabilità relativa. Quindi è chiaro che lì si è arrivati a sanzionare la condotta di sfruttamento lavorativo dei due fratelli che gestivano direttamente il rapporto di lavoro con atteggiamenti peraltro minacciosi, ma a non sapere nulla, nel senso che le indagini non hanno proprio neanche provato a verificare che tipo di relazione intercorreva tra i due sfruttatori diretti e il proprietario della terra che non si è mai saputo né capito se fosse colui che si approvvigionava di tutta la produzione agricola in quel campo che se la vendeva per conto suo e a quali condizioni poi remunerasse il soggetto che formalmente aveva un affitto di agenda. Quindi il problema spesso è anche la qualità, l'intensità dell'indagine, fino a dove si vuole arrivare. Un altro caso recente di sfruttamento nel settore, scusate se ogni tanto intercalo con degli esempi pratici, ma mi sembra che possano essere utili proprio per la comprensione. Un altro caso recente in cui siamo occupati, insomma mia collaboratrice qui che lo conosce tanto quanto me, di sfruttamento nel settore vitivinicolo. Questo caso nasce da un incidente mortale. Un lavoratore a bordo di un classico furgone che portava la squadra al lavoro nei campi, il furgone stracarico ben oltre la tolleranza consentita dalla legge, si rovescia, muore uno dei trasportati, parte l'indagine, questa azienda che aveva sede nella Bassa Padovana, questa società pseudo cooperativa che aveva sede nella Bassa Padovana, mandava lavoratori un po' in tutto il nord Italia e anche il centro Italia. In questo caso l'incidente mortale si è verificato in provincia di Firenze. La Procura di Firenze quindi apre l'indagine e praticamente è stato individuato abbastanza velocemente il titolare, il gestore di fatto meglio, perché il titolare era una testa di legno, il gestore di fatto di questa pseudo cooperativa e il quale poi dopo un po' di una breve detenzione ha patteggiato la pena. Ma i committenti di queste prestazioni, tutte cantine vinicole di chiara fama e peraltro con produzioni di alta gamma, non sono stati nemmeno disturbati per verificare in che condizioni e con quale consapevolezza delle condizioni queste persone erano state impiegate presso i diversi fondi agricoli che andavano dal Veneto passando per la Franciacorta arrivando fino nei Chianti. E tutte cantine, partendo dai Colli Ugani, tutte cantine di chiara fama delle quali non faccio i nomi per una questione ovviamente di rispetto dell'immagine. Non so quanto sia rispettabile ma comunque va rispettata. Questa non me la potevo risparmiare. Ebbene, in questo caso appunto gli imprenditori titolari di queste aziende agricole non hanno nemmeno saputo dell'esistenza di queste indagini. Non si sono mai accorti di nulla. Diciamo che sono rimasti stupiti quando hanno trovato un avvocato che, fulmina a Cesarino, gli ha scritto dicendo intervengo per tutelare Tizio, Caio Sempronio, eccetera, eccetera, vittime, sottamento, voi siete responsabili, eccetera. Ma come? Qual è successo? Questo per dire che anche lì le indagini avrebbero potuto essere più approfondite. I lavoratori riferivano che sui campi dove andavano a lavorare e non facevano solo la vendemmia, facevano tutta una serie di lavorazioni vitivinicole, alcune anche complesse e professionalizzanti, sui campi c'erano i preposti, ovvero i dipendenti delle imprese committenti a controllare e dirigere il lavoro, a decidere dove si lavorava, quando si cominciava, quando si finiva, cosa bisognava fare, come bisognava farlo e a controllare come veniva fatto. Di fatto il caporale era quello che si incaricava, o i suoi collaboratori, di recapitare la mano d'opera sul posto, di verificare che ci fosse, ecco, e poi di riportarla a casa. Ma la direzione del lavoro ce l'aveva, come è anche normale che sia, l'utilizzatore finale, quello che qualcuno definiva utilizzatore finale. Ebbene, in questo caso dal punto di vista giuridico siamo in presenza di una somministrazione irregolare di mano d'opera. La somministrazione irregolare di mano d'opera, cioè quella che non viene fatta da un'agenzia di lavoro interinale autorizzata, bensì da un'impresa qualsiasi, senza autorizzazione, era un reato fino a un po' di tempo fa. Poi nel 2016, se non ricordo male, questo reato è stato depenalizzato. Chissà perché, poi non vedo l'utilità di questa depenalizzazione, quindi oggi fa poca paura. Oggi c'è una sanzione amministrativa di 50 euro, se non ricordo male, al giorno, per ogni giornata lavorativa, per ogni lavoratore intermediato. Che però è una sanzione che fa poca paura a chi è organizzato per non avere niente da perdere. Ne farebbe di più se fosse applicata nei confronti dell'utilizzatore finale, che invece normalmente è qualcuno che ha qualcosa da perdere, non solo perché è proprietario di un terreno che non si può nascondere facilmente, ma anche perché normalmente è un'impresa sana. Ebbene, questo aspetto non è secondario nella possibilità di tutela delle vittime. Perché, vedete, abbiamo i casi in cui si tratta di persone regolarmente soggiornanti. Quindi l'obiettivo del conseguimento del permesso di soggiorno non c'è. In realtà, mentre qualche tempo fa c'era una presenza di lavoratori irregolarmente soggiornanti superiore, oggi, possiamo dirlo credo senza nessuna remora, buona parte di coloro che una volta erano semplici e regolari, oggi utilizza a torto o a ragione la procedura di accesso alla protezione internazionale per avere un permesso di soggiorno che nelle more consente di svolgere l'attività lavorativa. Poi queste persone spesso hanno fasi della loro vita in cui poi si trovano anche loro senza permesso di soggiorno e possono diventare irregolari dopo un periodo di soggiorno e anche di lavoro formalmente regolare. Però diciamo che normalmente non c'è più una attenzione dedicata essenzialmente al conseguimento del permesso di soggiorno perché la maggior parte delle vittime il permesso ce l'ha già. Che cosa, al di là del permesso di soggiorno, chi non ce l'ha ovviamente è interessato a avere anche quello, e al di là dei tempi che le autorità competenti impiegano per dare questo nulla osta, che spesso vuol dire aspettare un anno senza niente nel frattempo, ma chi invece non ha l'obiettivo di conseguire un permesso di soggiorno perché ce l'ha già o pensa di poter mantenere il permesso che ha anche se poi magari ha rischio di perderlo, per esito negativo della protezione internazionale o per altre ragioni, ha come obiettivo principale quello di essere pagato e di portare a casa i soldi che avanza dal datore di lavoro. Se questo obiettivo non può essere conseguito in tempi apprezzabili, o addirittura non può essere conseguito per insolvenza del soggetto passivo dell'obbligazione, è chiaro che il lavoratore che interesse ha a denunciare, a star dietro all'avvocato, al sindacato, all'operatore, per tutto il tempo che serve per raccogliere le informazioni, le carte, scambiare le informazioni e poi aggiornarsi. Dal suo punto di vista è una perdita di tempo. Sapeste quante volte mi è capitato che un po' lo disgraziato, interessato da vicende di questo genere, mi dicessi un certo punto di vista, sì ma se io vengo da te avvocato io perdo una giornata di lavoro. Per me è una giornata di lavoro, è una giornata in cui si fa la differenza tra mangiare e non mangiare. Mentre noi ci possiamo permettere il lusso di vivere questi fenomeni con curiosità quasi scientifica, anche se confido sempre con un atteggiamento umano e umanitario, i diretti interessati lo vivono in modo tragico queste congiunture. Non è facile convincere di fare tutta una serie di cose quando non possono percepire nemmeno quando avranno una fine. Ed è questa la realtà purtroppo. Uno degli aspetti fondamentali nelle denunce di sfruttamento lavorativo è quello della denuncia non solo del caporale, ma della descrizione delle condizioni di lavoro complessive. Denunciare soltanto il caporale vuol dire perdere tempo, perché tanto il caporale è organizzato per non avere niente da perdere. Un bel giorno quando i nodi arriveranno al pettine, arriverà veramente a rischio di andare in galera, probabilmente o quasi sempre sarà latitante, si sarà rifugiato nel proprio paese di origine, con i soldini già messi via e quindi avrà conseguito il suo scopo. Se non si riesce a dimostrare, quando c'è ben inteso, la responsabilità diretta dell'utilizzatore, in quanto è lui o i suoi preposti dipendenti, che controlla, dirige veramente, organizza veramente il lavoro, ecco che si arriva a un pugno di mosche. E tutto questo quando va bene nell'arco di un tempo comunque molto lungo. E più con una serie di problemi. Mentre abbiamo visto che per l'articolo 18 ci sono dei limiti dati dal testo della norma stessa, dei limiti ci sono anche nell'articolo 22,12 bis e seguenti, laddove appunto si recepisce la direttiva 52 del 2009 con questo permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo. La direttiva in realtà parlava, e parla tuttora, chi vuole la può leggere, di concessione del permesso di soggiorno a persone vittime di particolare sfruttamento, senza dare una definizione ulteriore del fenomeno di particolare sfruttamento. Per inciso, la nostra giurisprudenza, la Cassazione Penale, già da anni prima dell'introduzione di questa norma, aveva dato dei principi che permettevano di distinguere tra il normale sfruttamento e il grave sfruttamento. E quindi, diciamo che la definizione di particolare sfruttamento che poi è stata adottata nel nostro ordinamento con l'articolo 603 bis del codice penale, così come modificato a seguito della legge 199 del 2016, è una definizione che sostanzialmente ha recepito quei principi, quella definizione di condotte sintomatiche dello sfruttamento. Però, appunto, nella norma che ha recepito la direttiva si dice che commette un reato più grave del semplice impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno il datore di lavoro che occupa più di tre lavoratori senza permesso di soggiorno o che occupa minori in età non lavorativa o che occupa persone in condizioni di esposizione a rischio per la sicurezza, di grave rischio per la sicurezza sul lavoro. Quindi, l'esilatore italiano ha adottato una nozione di vittima di sfruttamento che è molto più ridotta e circoscritta rispetto a definizione adottata dalla direttiva. Oltretutto, poi, adottando un criterio quantitativo che non avrebbe una sua giustificazione. Cioè, la vittima di sfruttamento è vittima ed è sfruttata indipendentemente dal fatto che sia in buona e numerosa compagnia o che sia da sola. La condizione di vittima è identica, la sofferenza prodotta è identica. Certo, può avere un maggiore impatto sociale, l'impiego irregolare di molte persone, ma dal punto di vista della tutela della vittima la sua condizione non fa differenza. E, d'altra parte, la direttiva non ha introdotto nessun limite quantitativo, nessun minimo oltre il quale c'è lo sfruttamento e al di sotto il quale non c'è. E, però, è stata introdotta questa limitazione quantitativa per un motivo che poi mi è stato confessato a suo tempo molto chiaramente da parte dell'allora sottosegretaria al lavoro. In occasione di un'audizione parlamentare che avevamo chiesto come associazione di studi giudizi sull'immigrazione quando si stava per recepire la direttiva. Metto sa, l'imitazione quantitativa in qualche modo è connessa alla valutazione di opportunità sul non applicare queste disposizioni all'ambito del lavoro domestico. Poiché è difficile che uno abbia tre colfe, magari tutte e tre irregolari, in condizioni di sfruttamento, la volontà politica era quella di non applicare le norme sulla tutela delle vittime di sfruttamento all'ambito del lavoro domestico. E se sarebbe aperto un vaso di Pandora, come credo tutti possono immaginare. Ed ecco che allora è stata messa questa limitazione. Poi c'è la possibilità di applicare anche al singolo nel caso in cui si tratta di un minore in età non lavorativa e anche qui poi l'età non lavorativa del minore andrebbe meglio definita, perché secondo la nostra legge si può lavorare a 16 anni, ma solo a condizione di poter dimostrare di avere frequentato la scuola per almeno 10 anni, indipendentemente dal profitto. E un minore straniero irregolare faccio fatica a immaginare che si sia portato con sei diplomi tradotti e autenticati per dimostrare che ha frequentato la scuola per 10 anni. Per cui, per come la vedo io, fino a 18 anni il minore irregolare è presunto minore in età non lavorativa. La norma ha preferito specificare questo, anche se in realtà la direttiva fa riferimento alla tutela di minori in quanto tali, indipendentemente dal fatto che sia in età lavorativa o meno. Quindi anche qui abbiamo una erosione del campo di tutela disposto dalla direttiva. E poi abbiamo questa situazione di esposizione a grave pericolo per la sicurezza sul lavoro che però si presta a una valutazione aleatoria, discrezionale. Quando c'è un grave pericolo per la sicurezza sul lavoro e quando non c'è, in realtà non abbiamo delle norme che ci dicono, che distinguono i casi di grave pericolo dai casi di pericolo meno grave. Se un'impalcatura non è correttamente montata, c'è l'esposizione a un grave pericolo o meno? Chi lo sa? Dove sta scritto? Alla fine diciamo che avremmo potuto raggiungere la serena convinzione che quantomeno nei casi in cui l'infortunio si è già verificato e ha già prodotto conseguenze rilevanti, ecco che siamo in presenza di una grave esposizione a pericolo. Cioè il pericolo a quel punto è in re ipsa, cioè nel fatto stesso che si è verificato. Eppure, ne parlavamo prima a Compina, in un caso abbastanza recente che conosciamo entrambi molto bene, un sostituto procuratore di una procura del Veneto ha ritenuto che il lavoratore impiegato irregolarmente con documenti chiaramente contraffatti, molto chiaramente contraffatti, lo vedeva anche un bambino, ma anche ridicolmente contraffatti, contraffatti in maniera quasi commovente, ecco, impiegato quindi irregolarmente in un'azienda edile dopo, mi pare, una settimana o due di lavoro, cade in un buco che avrebbe dovuto essere segnalato che non avrebbe dovuto nemmeno esserci rispetto al quale non c'erano ponteggi, parapetti e niente, si frattura soltanto tre vertebre con un 25% di invalidità accettato all'INAIL e pur tuttavia il sostituto procuratore ha ritenuto che non sia stata una grave esposizione a pericolo, che tutto sommato sono robe che capitano e che quindi nulla osta per il permesso di soggiorno non era concedibile. Tentai addirittura di fare una memoria di 15 pagine argomentando e spiegando come e qualmente questa condizione doveva ricondursi all'applicazione di questa norma ma con una frase non facilmente intelligibile una firma visto si respinge. Boh, ed è così, sapete, non si può mica far più niente quando l'autorità giudiziaria ritiene di non avviare indagini. È così. Quindi diciamo che la definizione delle situazioni di particolare sfruttamento adottata dalla direttiva è una definizione discutibile. Peraltro sempre l'articolo 22,12 bis dice quando il lavoratore è sottoposto alle altre condizioni di sfruttamento previste dal terzo coma dell'articolo 603 bis del codice penale che è la norma dedicata alla sanzione del cosiddetto caporalato. In realtà l'articolo 603 bis che è stato peraltro modificato con la legge 199 2016 ora inequivocabilmente comporta l'applicazione di sanzioni penali non soltanto nei confronti del caporale dell'intermediatore ma nei confronti dell'utilizzatore chi che sia sia anche appunto un appaltante o un committente di lavori o di lavorazioni contro terzi. Quindi c'è il problema di capire quali sono le altre condizioni di sfruttamento cui rinvia l'articolo 22,12 bis ma l'articolo 603 è stato modificato abbiamo detto nel 2016 prima il terzo comma era riferito a delle circostanze aggravanti cioè quando le condotte di sfruttamento vengono realizzate con violenza o minaccia oggi invece siccome è stata modificata la norma il terzo comma non parla più di questo andiamo al quarto comma per contemplare le circostanze aggravanti della violenza o minaccia allora qual è l'interpretazione a dare oggi al testo dell'articolo 22,12 bis dove rinvia alle condizioni di sfruttamento del 603 bis quello delle condizioni aggravanti o quello degli normali indicatori di sfruttamento quindi l'impiego con trattamento economico palesemente ulteriore ritmi orari pause riposi in condizioni di palese violazione di norme di legge condizioni all'oggettivo di soviglianza degradanti oppure dobbiamo fare riferimento all'ipotesi di ora prevista dal quarto comma della violenza e minaccia questo è oggetto ancora di interpretazione non uniforme non uniforme molto spesso poi se il pulgo ministro dà il parere favorevole rilascio permesso di soggiorno all'articolo 18 non si pone il problema perché non ci riferiamo al permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo ma al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e quindi non ci dobbiamo preoccupare di capire come si interpreta l'articolo 22 comma 12 bis in relazione al testo prima e poi dopo la modifica del 603 bis però la realtà è questa che ancora oggi non è chiaro a quali condizioni peraltro la legge 199 2016 ha anche modificato l'articolo 380 del codice di procedura penale e ha inserito tra i reati per i quali le indagini possono dar luogo al rilascio del premesso di soggiorno all'articolo 18 anche le indagini per il reato di cui il 603 bis ma solo nella forma aggravata dal quarto comma cioè quando c'è violenza o minaccia allora a sintesi di tutto questo e poi dirò due parole sui problemi più pratici che si verificano perché mi pare di avere assorbito già troppo tempo e possiamo dire che cosa se il pubblico ministero ritiene sia applicabile l'articolo 18 problema risolto cioè se ti considera vittima a rischio di violenza minaccia da parte di un'organizzazione criminale e lì poi bisogna vedere cosa dichiara l'interessato specialmente se poi ha voglia di parlare di quello che succede nel suo paese oppure no soprattutto e comunque anche di quello che succede qua nei dintorni da parte di connazionali che spesso dicono ma tu hai denunciato guarda che devi stare attento cose di questo genere poi capita anche qualche caso di fortuna ricordo un caso di un signore che era stato chiaramente sfruttato ma non aveva mai ricevuto violenza o minaccia anche perché non ce n'è bisogno per lo sfruttamento lavorativo di violenza o minaccia normalmente basta dire o mangi questa minestra o salti la finestra non occorre imporre niente basta dire ce n'è una una fila interminabile di gente che vorrebbe lavorare al posto tuo per 5 euro l'ora o per 4 euro l'ora ed è così purtroppo basta passaparola all'interno di centri di accoglienza per formare le code rispetto a queste opportunità di lavoro quindi in un caso però appunto questui non aveva ricevuto nessuna forma di violenza o di minaccia ma dopo che è andato ad un cazzo alla stazione carabinieri uscendo la stazione ha trovato il sfruttatore che lo aspettava fuori e l'ha riempito di botte è uscito il maresciallo è ammenato pure il maresciallo a quel punto ecco che si sono verificati lo racconto come aneddoto sono verificati i presupposti per l'articolo 18 c'è stata la violenza o la minaccia ma adesso questo lo dico come caso racconto come caso estremo ecco però appunto spesse volte ancora si verifica anche se poi si parla più volentieri di tutto ciò che va bene ma spesse volte si verifica ancora adesso che il sostituto procuratore del caso dica no non do il parere favorevole né i sensi dell'articolo 18 né i sensi dell'articolo 22 comando di cbis e seguenti e su questo c'è ancora molto a lavorare poi c'è naturalmente il problema di prova il problema di prova che è un problema molto serio non tanto per la prova del reato quanto per la prova delle aspettanze retributive maturate perché vedete la prova del reato è data prima di tutto dalla denuncia da parte delle vittime ben inteso la denuncia deve essere circostanziata perché se qualcuno si pensasse per avventura di poter ottenere un permesso di soggiorno dicendo ho lavorato per uno che non mi ricordo bene come si chiama ma in un posto che anche quello non mi ricordo bene come si chiama avevo un numero di telefono ma l'ho perso e ho lavorato per un periodo più o meno indefinito facendo delle cose ecco questo signore non avrà nessuna attenzione da parte di nessuna autorità perché non sta denunciando niente di concreto la denuncia deve essere circostanziata corredata e tutti i possibili dettagli particolari qualche volta mi tocca dire al sindacalista di turno si tu adesso hai davanti a te questo bravo lavoratore che vuole denunciare ma lui ti sa dire dove ha lavorato no allora mi spiace ma dovresti fare tu quello che lui da solo forse non è in grado di fare dovresti accompagnarlo nel luogo che si ricorda di avere frequentato per lavoro geolocalizzarlo vedere se ci sono delle insegne in giro per capire se si riesce intanto a risalire all'azienda proprietaria insomma e magari vediamo anche di ricostruire l'arco temporale in cui ha lavorato perché se poi si danno delle informazioni che sono poi contraddette da altre circostanze è chiaro che tutto lì l'impianto rischia di essere giustamente meno credibile intanto ci vuole una serie di informazioni circostanziate da fornire e poi soprattutto bisogna anche imparare a fare le domande giuste e questo qualche volta qualche volta bisogna spiegarlo anche agli ispettori non a tutti a qualcuno soltanto perché vedete è nelle domande più spesso che si trova la verità più che nelle risposte se io chiedo a una classica vittima di assolutamente lavorativo chi è il tuo padrone lui sicurissimamente risponderà che il suo padrone è chi lo paga e cioè il caporale o quello che chiamiamo caporale anche se poi magari è formalmente titolare di un'impresa di una pseudo cooperativa eccetera ma in realtà quello che a me interessa da giurlavorista è capire chi è il vero padrone cioè chi concretamente utilizza e controlla la sua prestazione lavorativa volta per volta dove va a lavorare che normalmente per quella che è almeno mia esperienza non è il caporale ma è che talvolta o il caporale o il suo autista fa lo stesso lavoro che fanno gli altri sui campi ma chi controlla e dirige la prestazione lavorativa è il committente o un suo preposto un suo incaricato un suo dipendente e quindi è quello dal punto di vista giuridico il datore di lavoro perché siamo in presenza di una somministrazione regolare di lavoro ma se io faccio la domanda banale chi è il tuo padrone e lui risponde il caporale e concludo l'indagine io lascerò sempre fuori invece il soggetto che non solo è maggiormente responsabile da tutti i punti di vista anche dal punto di vista morale della diffusione di questi fenomeni di sfruttamento ma che poi è responsabile anche dal punto di vista patrimoniale e che per di più è normalmente solvibile a differenza di quanto invece si verifica per il caporale ecco ora in sede penale la prova di queste responsabilità è data essenzialmente dalle dichiarazioni delle vittime e poi dagli atti di indagine per carità se poi sono atti di indagine fatti in modo compiuto vanno anche a verificare non soltanto le dichiarazioni interessati e i periodi di lavoro ma anche i flussi finanziari cioè quanto paga il committente per queste prestazioni cosa c'è scritto nelle fatture ci sono pagamenti in bianco in nero come si dice note di accredito sospette che fanno pensare appunto a manovre elusive per non far vedere quanta gente ha lavorato quanto è stata pagata veramente per quelle prestazioni perché si può talvolta anche risalire al vero costo assunto dal committente che evidentemente non permette di pagare tutti i costi regolari del personale impiegato quindi anche questi sono elementi utili per l'indagine ecco e poi anche di vedere quanto ha raccolto quanto ha commercializzato per capire se c'è congruità tra quello che risulta nelle fatture è quello che è il vero volume d'affari di quell'azienda l'effettivo smercio di quei prodotti raccolti o l'effettivo il compimento di quelle lavorazioni in sede civile invece quando si va davanti al giudice del lavoro i lavoratori non sono testimoni tecnicamente perché perché parlano di un interesse proprio e anche le testimonianze dei colleghi di lavoro coinvolti nelle stesse condizioni di fruttamento poiché riguardano questioni di interesse personale in cui hanno un evidente concorso di interessi le loro dichiarazioni non sono valutate come testimonianza in senso tecnico certo sono valutate dal giudice anche perché ovviamente il giudice valuterà se sono dichiarazioni coerenti concordi credibili eccetera ma non sono ancora testimonianze prove in senso tecnico il grosso problema oltretutto è che normalmente questi lavoratori non hanno possono dimostrare che hanno lavorato in un posto o possono essere creduti per aver lavorato in un posto perché rendono una serie di dichiarazioni di conoscimento di luoghi eccetera ma altra questione è per via di quanti soldi portare a casa dimostrare quanto hanno lavorato perché se io voglio far valere la responsabilità solidale del committente o dell'utilizzatore finale sul presupposto che l'appalto sia lecito che quindi non ci siano somministrazioni regolari in mano d'opera io devo dimostrare quanti giorni quante ore ha lavorato ciascuno di loro presso quel committente e capite bene che se uno ha lavorato oggi in un posto domani in un altro dopo domani in un altro ancora già capire perché ha lavorato è tanto dimostrare quanto ha lavorato da ciascuno non è così semplice e questo se si vuol far valere la responsabilità solidale del committente però è anche vero ed è per questo che insisto molto nel sottolineare che molto spesso va accertata perché molto spesso c'è la responsabilità diretta del committente in quanto utilizzatore della mano d'opera in veste di effettivo datore di lavoro perché in questi casi lui diventa corresponsabile del reato cioè il 603 bis codice penale non si applica soltanto al caporale intermediatore a coloro che concorrono in questa condotta ma anche in questo caso l'utilizzatore finale perché l'utilizzatore finale è il vero datore di lavoro e quindi è parimenti imputabile del reato a quel punto un committente un formale committente che di fatto usa questa mano d'opera come se fosse propria come mano d'opera in affitto nel momento in cui si vede sottoposto a indagini spesso si riduce a più biti consigli e magari accede almeno senza troppe contestazioni sulla mancanza di prove relative ai periodi lavorati accede a una conciliazione decorosa che permette ai lavoratori di portare a casa almeno qualcosa di significativo per sé e per la sua famiglia perché poi è perfettamente lecito e anzi decoroso tutelare gli interessi patrimoniali di queste persone se no li prendiamo in giro questo per lasciare aperto poi il problema delle misure di tutela di protezione che si riesce ad apprestare a queste persone nel momento in cui denunciano perché dovrebbero se vivessimo nel migliore dei mondi possibili essere immediatamente presi in carico avere subito un alloggio diverso da quello in cui si trovano e avere un'offerta da un posto di lavoro regolare perché perdono intanto un lavoro denunciando perdono intanto la paga che sperano di recuperare chissà se mai la recuperano quindi bisogna offrire bisognerebbe condizionare l'obbligo offrire una soluzione più a tutto tondo di fatto qualche volta riesce e poi i mezzi sono quelli che sono perché poi purtroppo non voglio rubare il terreno di Giuseppina di Bari ma insomma purtroppo il sistema antitratta ha delle risorse che sono non casualmente molto limitate ecco io credo di aver occupato troppo tempo quindi mi fermo qui poi eventualmente discutiamo la casistica allora riprendiamo con il secondo intervento con la dottoressa Giuseppina di Bari che ci parlerà nel dettaglio del progetto navigare di cui la regione Veneto è capofila e ci racconterà un po' quella che è la sua esperienza sul campo e ci porterà anche un sacco di dati prego ecco mi hanno già presentato sono Giuseppina di Bari e sono operatrice socio legale del progetto navigare io come faccio sempre ho preso un sacco di appunti dall'intervento precedente perché ascoltare Marco Paggi è sempre un grande piacere ho appunto il piacere ma anche l'onore di insomma di collaborare con Marco e per cui molte delle cose che dirò saranno una sorta di integrazione di quello che è stato detto nella prima parte di questo intervento la nostra è appunto è un'esperienza sul campo da molti anni io appunto lavoro in questo progetto e sono operatrice socio legale insieme a tanti altri colleghi che con formazioni diverse il progetto navigare e qui leggete l'acronimo è network antitatta Veneto intersezioni e poi su questa parola ci torneremo governance azioni regionali capofila regione Veneto dopo una lunga esperienza diciamo di capofila del comune di Venezia negli anni passati in questo momento appunto la regione c'è dal 2021 alla governance di questo progetto così come del numero verde antitratta che è il 800 290 290 che è l'unico dispositivo diciamo centralizzato quindi nazionale entrambi questi progetti sono finanziati dal dipartimento delle pari opportunità li chiamiamo progetti anche se hanno come dire ormai da molti anni diciamo garantiscono una certa continuità noi in questo momento siamo all'avviso 5 ma di fatto i progetti vengono rinnovati dal 2000 cioè quindi sono progetti che si rinnovano prima di anno in anno adesso hanno un maturato un po' più lunga di 17 mesi il progetto navigare da quest'anno anzi dall'anno scorso ha attivato una forma diversa diciamo di collaborazione col terzo settore ovvero a differenza del passato dove si lavorava per bandi quest'anno si è messo in campo la coprogettazione cioè è una modalità di collaborazione con il terzo settore che ci ha permesso diciamo di andare a identificare quelli che sono i veri bisogni dei territori perché il terzo settore più dell'ente pubblico probabilmente talvolta con dei propri territori per cui in questo momento la regione Veneto ha la governance e all'interno ha tre operatori che diciamo costituiscono lo staff e poi come dire dialoga in una cabina di regia più allargata con i capofila di ATS che sono appunto la ATS è composta da più soggetti del terzo settore di tutta la regione Veneto e in questo modo riusciamo come dire a intercettare anche quelle che sono diciamo le novità dei fenomeni che ci riguardano e questa ecco la volevo portare come anche come buona prassi perché in qualche modo diciamo va è una gestione mista perché in Italia invece abbiamo delle gestioni che sono o a capofilato completamente delle regioni oppure solo del terzo settore questa è una forma di sperimentazione poi c'è tutto un partenariato vastissimo che appunto va cioè dalle appunto gli enti locali e quindi l'Anci e poi le aziende dell'ASL le università di tutto il territorio per cui Padova diritti umani Verona la facoltà di giurisprudenza Venezia Uav e Cafoscari questo ci permette come dire ripeto di guardare da un'angolatura diversa il fenomeno quindi di farci aiutare a guardare il fenomeno da un'altra angolatura e le forze dell'ordine la magistratura e la direzione antimafia il progetto come vi anticipavo avrà questa durata cioè il nuovo progetto quindi il bando avviso 5 è partito dal primo di ottobre e diciamo andremo a scadenza nel 2024 quindi abbiamo progettato per questi mesi in continuità con i bandi precedenti intende consolidare un sistema unico e integrato diciamo di emersione assistenza delle vittime poi ecco su queste cose ci torniamo su questi aspetti ci torneremo qual è la peculiarità di questo progetto noi abbiamo una trasforza attiva 24 ore su 24 365 giorni all'anno cosa vuol dire che c'è sempre una reperibilità nel momento in cui le forze dell'ordine piuttosto che la persona con un'autosegnalazione dovesse chiedere aiuto siamo in grado nel giro di due ore cioè il tempo massimo per muoversi e raggiungere la persona o il soggetto segnalante e prendere in carico la situazione questo spesso avviene in una filiera che abbiamo diciamo nel tempo affinato attraverso il numero verde nazionale per cui chiunque può chiamare l'800 290 290 che funziona H24 e che ha la possibilità attraverso diciamo gli operatori di poter rispondere anche nella lingua insomma di cui la persona è portatrice questo ci permette come dire di intercettare immediatamente il bisogno anche nell'urgenza la metodologia di cui questo progetto adotta ormai da anni è quella appunto del lavoro a multiagenzia che per noi che cosa significa perché poi c'è un abuso spesso di queste parole per noi multiagenzia significa lavorare con tutti i soggetti che in quel momento a vario titolo intervengono in quella situazione per cui le forze le forze dell'ordine ma anche gli ospedali ma anche ma anche gli avvocati ultimamente abbiamo come dire aumentato tantissimo dal rapporto con gli avvocati soprattutto per gli avvocati che si occupano di migrazione e e per cui insomma di volta in volta questo aspetto della multiagenzia muta cioè ci sono proprio delle si formano come delle delle maxi equip che lavorano sui casi soprattutto vedremo sullo sfruttamento lavorativo io dico parlo al plurale di casi perché le emersioni avvengono le emersioni sono spesso di gruppo e non sono singole ok la metodologia appunto come dicevo è sempre improntata sulla tutela dei diritti umani e sull'empowerment dei soggetti perché mettiamo al centro le persone Marco prima parlava no della delle persone come di persone che spesso non hanno nella forza nella coscienza di essere vittime però c'è un lavoro da fare per far sì che siano loro a chiedere aiuto perché altrimenti l'errore più grossolano sarebbe quello di costruire un progetto intorno a loro senza che poi loro ne siano veramente coscienti e desiderosi insomma di farlo e questo tenderemmo ad evitarlo siamo un gruppo di lavoro grande grosso naturalmente questo numero si rifà a tutte le equip comprese anche gli operatori che lavorano nelle strutture di accoglienza che ci sono molte strutture di accoglienza spaste su tutto territorio capirete bene che poiché noi lavoriamo con persone che spesso sono in pericolo quando emergono la prima valutazione che si fa molto spesso con le forze dell'ordine è quella di collocarle in un territorio diverso da quello dell'immersione per cui si emergono a Padova si portano a Verona e quindi ci sono tante strutture di accoglienza su questi territori suddivise tra strutture che noi chiamiamo punti di fuga dove le persone vengono collocate per un periodo breve giusto il tempo insomma di capire di che cosa stiamo parlando di che cosa abbiamo bisogno e se le persone poi si vogliono fermare per poi essere appunto spostate in strutture che sono un po' più strutturate dove parte il famoso periodo di riflessione che anche se non è stato riconosciuto dalla normativa noi questa cosa l'applichiamo nel senso che è un periodo in cui la persona decide che cosa vuole fare cioè sono di solito vado un mese a tre mesi ed è un periodo in cui vengono fornite alla persona tutte le informazioni utili a prendere una decisione per far sì che prenda una decisione come è strutturato il progetto il progetto ha questa diciamo architettura che noi abbiamo chiaramente mutuato dal bando che viene emanato tutti gli anni dal dipartimento pari opportunità l'area dell'immersione che per noi diciamo noi l'abbiamo declinata così con il contatto le valutazioni le azioni proattive azioni proattive e perché perché ripeto citando l'intervento che mi ha preceduto spessissimo queste persone non si rivolgono a noi per chiedere aiuto bensì come dire siamo noi che invece ci avviciniamo alle loro situazioni e quindi proattive in questo senso e come lo facciamo beh intanto quando vi leggete il contatto chiaramente io vi sto parlando del progetto che si rivolge a tutti i tipi di sfruttamento non solo sfruttamento lavorativo quindi io qui vi parlo scusate se non l'ho detto prima anche l'asfruttamento in ambito sessuale nelle economie legali forzate appunto l'asfruttamento lavorativo nell'accattonaggio anche quindi il contatto per noi significa unità di contatto che si spostano sui territori ma anche drop-in diciamo volanti anche spostelli collocati all'interno di strutture dove le persone possono chiedere aiuto e tutto questo serve per l'emersione l'emersione è uno degli obiettivi del progetto dopo questo periodo appunto di emersione che è un periodo importantissimo dove noi raggiungiamo dei numeri molto alti poi diciamo il campo è un po' come se fosse una piramide poi c'è il periodo dell'assistenza l'assistenza è la pronta la prima assistenza quindi quello che vi dicevo prima i punti di fuga piuttosto che le strutture dove le persone vengono collocate per diciamo entrare in quel periodo di riflessioni che poi le permetterà di capire che cosa vogliono fare ma anche è un periodo che serve a noi per diciamo fare quell'identificazione qualificata e non precoce che invece viene fatta spesso anche delle forze dell'ordine oppure quella precoce più famosa è quella degli sbarchi per dire no quell'identificazione che può essere fatta diciamo da chiunque abbia un minimo diciamo di preparazione per farla la nostra è un'identificazione qualificata e quella non può essere che fatta in un periodo congruo per cui ci serve un periodo che è ecco da un mese a tre mesi che cosa e quindi questo periodo si colloca in questa diciamo casella che è l'assistenza dove può anche accadere che fondamentalmente che cosa accade le persone possono decidere di intraprendere un programma di protezione sociale per cui accedono allo step successivo che è quello dell'inclusione sociale oppure per le caratteristiche che hanno possono rientrare nei quelli che noi chiamiamo contenitori di confine per cui la protezione internazionale per esempio perché se una persona ha una richiesta di protezione internazionale o è incontenzioso rispetto alla protezione e può accedere in uno dei due contenitori che sono i CAS o i SAI ecco che noi facciamo quello che chiamiamo il referral agli altri sistemi di accoglienza molto più grandi diciamo e capienti dei nostri e poi c'è la fase dell'inclusione sociale qui i numeri diciamo si restringono è la fase in cui partono i programmi di protezione sociale all'interno del progetto unico appunto ai sensi dell'articolo dell'articolo 18 della 2698 non ci facciamo non come dire perviare dal articolo il progetto si chiama articolo 18 della 2698 programma unico ma questo non vuol dire che all'interno di questo programma ci possono entrare le persone che sono in possesso di un permesso di soggiorno nei sensi dell'articolo 18 o meglio loro possono certo ma ci possono entrare anche le persone che hanno altre tipologie di permessi di soggiorno perché a volte si fa questa confusione quindi ci possono entrare richiedenti di protezione internazionale persone che hanno già lo status che hanno la sussidiaria che hanno permesso per protezione speciale che hanno un permesso anche adesso ne potrebbero venire in mente altri le cure mediche l'importante è che abbiano che ci sia un'identificazione come persona gravemente sfruttata o vittima di tratta se c'è quel tipo di identificazione le persone e le persone vogliono possono entrarci ecco perché una delle caratteristiche del programma che noi seguiamo è la diciamo cioè l'attenzione all'autodeterminarsi perché si prevede che la persona voglia aderire ad un programma di protezione sociale ecco abbiamo tirato giù questa di intersezioni perché le intersezioni che il progetto navigare ha con tutti gli altri sistemi sono numerosissime e lo sono sempre di più soprattutto nel momento in cui ad un certo punto dal 2012 in poi le vittime di tratta di grave sfruttamento si sono intersecate con i flussimisti che provenivano appunto da quelli che conosciamo di più dalla Libia ma non solo anche dalla lotta balcanica di tutte quelle persone che diciamo subiscono lo smuggling i trafficanti di esseri umani hanno deciso di calcare le stesse rotte per cui noi sempre più spesso ci siamo ritrovati a come dire interloquire con persone che sono sì vittime di tratta ma sono provengono dal contenitore della protezione internazionale quindi vuol dire identificazione spesso agli sbarchi o identificazioni e poi vedremo quanto è stato importante anche in termini numerici delle commissioni che sono radicate appunto sui territori per la protezione internazionale e di recente con una poi dedicherò una parte anche a questa diciamo questa novità importante per il nostro progetto un protocollo con le sessioni specializzate quindi l'idea è quella di in una linea ideale collocare cioè identificare in qualsiasi momento una vittima dal momento precoce che può essere lo sbarco oppure l'arrivo della lotta balcanica oppure in questura quando chiede la protezione o quando chiede aiuto fino a quando all'ultimo diciamo si ritrova in un contenzioso e non è ancora stato identificato o identificata come vittima di tratta o di grave sfruttamento altro contenitore sono i centri di antiviolenza perché come vedremo poi nei numeri che insomma mi sono stati gentilmente concessi dal numero verde nazionale all'interno dei progetti articolo diciotto per quello che dicevo prima programma unico talvolta vi accedono anche le donne che sono vittime di violenza che quindi hanno come permesso di soggiorno diciotto bis che poi rientra sempre nella casistica dei casi speciali questo perché sempre più spesso noi vediamo una stratificazione di violenze e quello a cui vorremmo sfuggire ma spesso non è possibile sono le etichette per cui se una persona è una vittima di violenza non può essere anche una vittima di tratta e invece in un'ottica sempre più condivisa per fortuna si riesce a lavorare insieme e poi magari faccio accedere anche a queste linee guida in un HCR sulla violenza di genere che prevedono un lavoro invece molto diciamo congiunto con chi lavora sulla tratta i minori stanno accompagnati perché proprio qui in Veneto da tre anni a questa parte abbiamo attivato un progetto che si chiama Inside Out ed è un progetto che ci permette di lavorare nell'area penale soprattutto nell'area penale con quei minori che commettono un reato appunto della migliorità i reati più frequenti sono quelli di spaccio rapine e sono quei minori che vengono reclutati dalle organizzazioni criminali e che vengono poi postati sul nostro territorio per appunto per delinquere ma in una cornice di grave sfruttamento a tal proposito appunto questo progetto ci ha permesso intanto di resumare uno dei comma dell'articolo 18 che è il comma 6 che viene pochissimo diciamo usato ed è quel comma che in sostanza permette a un minore che poi diventa maggiorenne che ha commesso un reato durante la minorità di accedere a uno speciale permesso di soggiorno se ha diciamo intrapreso un percorso di fuoriuscita e anche virtuoso e quindi che può essere una messa alla prova piuttosto che un affidamento ai servizi ecco all'interno dei nostri progetti come vedrete poi nelle casistiche abbiamo anche questa casistica qua chiaro che noi come progetto antitratta interveniamo nelle prese in carico quando questi minori diventano maggiorenni e poi vedremo che anche una delle fasce di pericolo di questi ragazzi quando passano dalla minorità alla maggiorità poi vabbè sulla sistema di protezione internazionale ho già detto quindi vado avanti un altro affondo su come siamo organizzati come progetto queste sono delle aree che ci siamo un po' date all'interno del progetto Navigare oltre a quelle che abbiamo citato prima sono delle aree trasversali che cercano in qualche modo di fornire una sorta di cassetta degli attrezzi a queste persone alle persone che emergono quindi l'area della salute certamente l'area socio-legale quella di cui io mi occupo direttamente e quindi di cui oggi parlerò di più la forma l'area ecco l'area della della salute l'abbiamo staccata da psicologhe a bordo anche se per me la salute è anche la salute diciamo psicologica però abbiamo voluto dedicare un progetto ad hoc che si chiama psicologhe a bordo dove ci sono delle colleghe psicologhe con una formazione di nettona psicologia e di nettona psichiatria che formano appunto un team sia con lavori di gruppo che singole rispetto a persone che emergono sfatiamo il mito che gli uomini hanno meno bisogno delle donne dell'area psicologica perché noi in questo momento invece ci sentiamo di sostenere il contrario l'area dello staff intercultura che anche questo è molto interessante perché ecco una delle caratteristiche del nostro progetto è che per metà siamo operatori con varie diciamo provenienze di formazione e per la metà mediatori linguistico-culturali anche loro provenienti da altre formazioni perché anche i mediatori hanno formazioni varie e questa è una grossa ricchezza per il nostro progetto qui come diceva prima io queste ve le lascerò e quindi avrete modo di guardarle con più calma in qualche modo Marco Paggi ha già dettagliato in maniera puntuale tutti questi passaggi per cui salto questa è ecco adesso vi porto un attimo a fare un giro sul panorama nazionale qui abbiamo un po' la mappa dei 21 progetti nazionali cioè l'Italia e il Dipartimento delle Poi di Opportunità finanzia questi 21 progetti che corrispondono quasi completamente alle regioni se fosse on the road l'associazione on the road ne copre ne copre due di regioni qui diciamo potete un po' leggere sta aumentando la governance pubblica rispetto al passato quindi l'idea appunto è di andare verso una responsabilizzazione un po' più forte della governance pubblica non trascurando assolutamente l'esperienza annosa che ha invece il terzo settore e quindi l'ideale è che la gestione sia assolutamente mista qui c'è una panoramica diciamo con un respiro un po' più ampio allora quando io vi parlo di Bando Unico faccio riferimento al 2016 in cui praticamente c'è stato il primo piano nazionale antitratta intanto e poi quindi siamo stati sollecitati e poi abbiamo risposto dopo diversi anni e poi c'è stata una riforma anche rispetto a due contenitori che erano l'articolo 18 che faceva a capo l'articolo 18 l'articolo 13 che faceva a capo la 228 del 2003 questi due sistemi si sono fusi per cui esiste un unico avviso un unico bando e che quindi nasce nel 2016 quindi quando io vi dico Bando 5 è parte dal 2016 perché altrimenti saremmo al Bando 20 dal 2020 quindi i numeri che voi vedete sono aggiornati al 7 di novembre e come dicevo prima grazie a questo sistema di raccolta dati che si chiama SIRIT che è un acronimo adesso non ve lo so dire esattamente ma sarà un sistema di raccolta dati appunto del numero verde l'acronimo non me lo ricordo ed è l'unico sistema in questo momento di raccolta dati nazionale rispetto diciamo a quelli che sono i dati raccolti da tutti i progetti quindi tutti i progetti convergono su questo sistema che raccoglie dati ed è sono i dati che poi il partimento usa anche per diciamo relazionare anche in Europa che cosa ci dice questo sistema beh intanto è una fotografia anche abbastanza fedele se ci vogliamo in questo momento che vede la Nigeria come diciamo un target prevalente e se dico Nigeria qui mi sento sono fondamentalmente donne tant'è che poi lo vedete che sono donne e perché questa è proprio la fotografia dal 2016 in poi in cui sappiamo perfettamente che in quei famosi flussimisti gli arrivi massicci furono di donne 2016 2017 abbiamo visto 11.000 sbarchi di donne nigeriane sulle nostre coste per cui diciamo questa è una fotografia che raccoglie questo bacino e questa datazione ora vi dicevo prima che questi dati questi che vi sto mostrando riguardano tutte le tipologie di sfruttamento poi faremo un affondo sul lavorativo chi sono i soggetti che segnalano agli enti antitratta perché questi sono dati nazionali come potete vedere anche c'è questa curva interessante per esempio come io mi soffermo sulle commissioni territoriali perché per noi sono veramente un interlocutore privilegiato lo sono da un po' di anni e continuano ad esserlo perché per fortuna si sono come dire anche formalizzate le forme di collaborazione attraverso le disciplinari sollecitate anche delle linee guida NUHCR e qui vediamo quanto per esempio nel 2019 più della metà delle segnalazioni provenivano dalle commissioni territoriali e questo ha fatto sì appunto intanto che i sistemi di antitratta in qualche modo fossero appunto sollecitati a lavorare di più con i sistemi di confine tant'è che nei bandi negli avvisi c'è un articolo credo che sia l'articolo 10 c'è un articolo che il punto 10 che sollecita gli enti antitratta a stipulare degli accordi formali con chi lavora nella protezione internazionale e poi invece con le commissioni territoriali c'è un rapporto come dire di formazione reciproca se vogliamo dire c'è anche ci si sofferma soprattutto sui fenomeni emergenti e si prova da risposta a quelle che sono i sistemi di referral cioè la commissione durante le audizioni se emergono degli elementi diciamo che riconducono la tratta e segnalano cioè interrompono l'audizione segnalano l'entitratta che poi invia una nota di feedback che in qualche modo aiuta la commissione nel dossier più ampio a prendere una decisione io qui faccio proprio perché parliamo di sfruttamento lavorativo mi sento di farlo negli ultimi nell'ultimo anno l'ultimo anno e mezzo le commissioni territoriali stanno ci stanno inviando delle segnalazioni anche per il grave sfruttamento lavorativo qui però lo dico perché insomma c'è anche una platea preparata su questo e posso entrare nei dettagli abbiamo e stiamo preparando con le commissioni anche una sorta di aggiornamento su questa questione del sfruttamento lavorativo perché alcune commissioni ci hanno inviato un referral che però non richiede un feedback è come se fosse una segnalazione cioè ci segnalano che questa persona durante l'audizione ha parlato di sfruttamento lavorativo ma non ci chiedono il referral cioè loro decidono cioè ci mandano un referral e decidono e non aspettano che noi invece facciamo un colloquio per restituire perché comunque non rabbedono gli elementi per la protezione internazionale salvo come mi è successo con Catania qualche settimana fa che mi ha chiamato personalmente una funzionaria dicendomi appunto che mi avrebbe che ci avrebbe inviato una comunicazione che però non era una richiesta di referral che però dottoressa se voi poi durante il colloquio vi accorgete che ci sono degli elementi riconducibili invece alla tratta e a quelli che possono essere gli elementi che poi ci fanno propendere per una protezione internazionale o per altre forme di protezione la persona può sempre fare una richiesta reiterata perché siamo noi comunque a decidere poi se è una richiesta fondata o meno ecco io vi riporto quelli che sono veramente gli aggiornamenti questi non sono neanche gli aggiornamenti che abbiamo fatto che abbiamo condiviso con le commissioni però li andremo a condividere perché stanno aumentando queste segnalazioni ripeto abbiamo chiesto alle commissioni quando ci fanno le segnalazioni però a questo punto di distinguere le segnalazioni che richiedono un feedback da quelle che non lo richiedono perché altrimenti poi noi ci troviamo persone che vanno in questura e si vedono notificato un diniego mentre noi dobbiamo ancora convocarli per fargli il colloquio questa è la situazione un po' problematica ecco scusate se mi sono un po' soffermata su questo però mi sentivo di condividerlo altri soggetti che ecco adesso vedete che le commissioni comunque rispetto al 2019 stanno un po' calando però poi vedremo in questa slide non ci sono però un po' per osmosi stanno aumentando le segnalazioni dei tribunali delle sezioni specializzate e questo è interessante le unità di UDS sono unità di strada unità di contatto che chiaramente in un'azione diciamo proattiva fanno anche delle segnalazioni qualificate anche se io lo dico e questo lo dico per il nostro progetto navigare noi tendiamo a tenere questi due contenitori completamente separati cioè chi lavora nel contatto lavora prevalentemente per la bassa soglia poi se nel contatto emergono degli elementi diciamo che l'operatore si sente di condividere o di dare alle persone ulteriori elementi per la fuoriuscita lo fa però questo anzi spesso gli operatori sono proprio diversi chi lavora nel contatto non lavora nella fase successiva proprio per mantenere quella neutralità utile per chi lavora nella bassa soglia le forze dell'ordine le forze dell'ordine purtroppo segnalano poco meno di quanto potrebbero ma tant'è cioè siamo scesi davvero a delle soglie cioè 5,2 proprio è veramente poco ora vedremo invece dopo sullo sfruttamento lavorativo invece come sta crescendo la collaborazione con le forze dell'ordine soprattutto nella fase diciamo ispettiva persone che emergono autonomamente aumentano ma soprattutto sullo sfruttamento lavorativo devo dire funziona moltissimo al passaparola ha funzionato moltissimo e ha funzionato moltissimo soprattutto nel periodo post emersione sanatoria 2020 quasi possiamo abbiamo fatto anche questa riflessione condivisa con i colleghi degli altri territori quasi che diciamo le truffe della sanatoria in qualche modo incrociandosi con l'asfruttamento lavorativo hanno fatto sì che le persone chiedessero aiuto maggiormente quindi facendolo proprio autonomamente qui ve lo lascio perché è improponibile come slide questa però magari per chi volesse in maniera più dettagliata capire chi sono i segnalanti nelle slide che poi gli organizzatori rigireranno potrete vederli gli ambiti di sfruttamento ecco qui entriamo un po' di più sempre in quel asso di tempo di cui vi parlavo andiamo a capire quanto lo sfruttamento lavorativo sta crescendo a livello nazionale rispetto al passato cioè se prendiamo una slide se prendiamo il grafico vediamo nel 2016 le persone che emergevano le persone prese in carico del servizio antitratta che provenivano dello sfruttamento lavorativo erano veramente poche neanche 10% se guardiamo oggi se guardiamo il 2022 abbiamo una abbiamo una una risalita importante e poi nei dati veneti che vi darò vedrete che questo dato è addirittura più più significativo rispetto all'assolutamento lavorativo per cui un po' rispetto a quello che diceva Marco prima Marco aveva sicuramente visto le slide nazionali e non quelle venete adesso ti sorprenderò con effetti speciali e sfruttamento lavorativo infatti e invece rispetto all'assolutamento lavorativo ecco qui abbiamo le aree sempre nazionali no di maggiore diciamo evidenza vabbè il mondo agricolo prevale su tutte chiaramente ma anche perché la metafora di Marco prima era significativa no nel senso che se si va a pescare si trova sicuramente e sul sul mondo agricoltura si è fatto anche un piano triennale ci sono anche dei tavoli forse c'è anche una sensibilità maggiore c'è anche una conoscenza maggiore però la nostra esperienza veneto in realtà ci restituisce un'altra storia che poi vi mostrerò ok questi sono appunto i valori sempre nel dettaglio sulla questione sempre nazionali sul lavorativo quindi vedete che insomma nel 2022 qui parliamo solo del 2022 e non di quell'arco di tempo nel 2022 cioè in questo momento il sistema SIRIT registra questo dato cioè su 1584 persone prese in carico 362 provengono dal puro sfruttamento lavorativo poi ci sono anche diciamo la cosa cioè la servitù domestica cioè si possono anche accorpare dei dati però ecco i dati puri sono alti rispetto al passato quindi 362 qui è una slide io ho voluto inserire questo argomento perché proprio lo scorso anno il numero verde ci ha a ciò somministrato una sorta di diciamo test per conoscere un po' quello che stava avvenendo sui territori sullo sfruttamento lavorativo e ci ha domandato ha domandato a tutti i progetti in Italia quanti permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 22 come 12 quadri fossero stati come dire li lasciati ecco dalla dalla dell'autorità giudiziaria e se qui c'è una forma sbagliata richiesti perché poi non siamo noi che richiediamo in nulla osta ma sono sono e la magistratura che in base a quelli che sono insomma i reati decide se come dire rilasciare un articolo 18 un articolo 22 è stato curioso la richiesta era legittima la risposta è stata veramente curiosa intanto hanno risposto solo 13 progetti su 21 questo significa che gli altri progetti non credo che siano stati sbogliati ma probabilmente non hanno proprio la casistica e questo è sì è sintomatico del fatto che probabilmente non tutti i progetti lavorano così tanto sullo sfruttamento lavorativo nel senso che questo sistema nasce diciamo storicamente nell'ambito sessuale probabilmente ci sono dei progetti che come muovono le proprie azioni ancora prevalentemente in quell'ambito e non si sono adeguatamente diciamo organizzati per la questione dell'asfruttamento lavorativo anche perché ho visto alcuni progetti che mi hanno risposto sono progetti del sud e non voglio neanche immaginare che il fenomeno al sud non ci sia di sfruttamento lavorativo alcune diciamo riflessioni come io prima vi anticipavo sulla questione dell'aumento delle emersioni nel sfruttamento lavorativo sono collegati comunque anche alla sanatoria o meglio nella nostra esperienza l'80% delle persone che hanno fatto una denuncia per sfruttamento lavorativo grave sfruttamento lavorativo erano state anche truffate diciamo spesso dagli stessi datori di lavoro o caporali o intermediari anche nella sanatoria per cui noi abbiamo ci siamo ritrovati persone che erano sfruttate nei campi oppure erano sfruttate in edilizia o erano sfruttate in altre forme ma nel frattempo avevano anche erano stati anche truffati quindi avevano pagato 6.000 4.000 euro quindi avevano anche aumentato il proprio debito quindi avevano anche aumentato la loro vulnerabilità perché poi come Marco ci anticipava prima il debito significa negli indicatori anche un alto livello di vulnerabilità ok sull'articolo 22 magari ci tagliamo dopo questa è la fotografia della ricognizione del numero verde ha sorpreso molto anche me confesso questi sono i progetti che hanno risposto però le richieste cioè come dire l'ottenimento dei permessi di soggiorno sono sostanzialmente questi cioè dal 2019 attenzione ad oggi i permessi richiesti dagli enti antitratta sono questi numeri qui questo in realtà non giustifica assolutamente la diciamo il fenomeno e l'aumento del fenomeno cioè noi abbiamo avevamo io ho fatto anche una domanda supplettiva alla ricognizione cioè ho detto ma non è che i progetti hanno risposto solamente per le persone prese in carico e non hanno inserito anche quelle che magari hanno incrociato con cui hanno collaborato che hanno avuto anche i permessi e non sono stati inseriti la risposta è stata no questi sono proprio tutti quelli che abbiamo incontrato per cui veramente pochissimi pochissime richieste il Veneto noi abbiamo un'esperienza diciamo abbastanza importante sullo sfruttamento lavorativo tant'è che anzi vi dirò che questa qui questa slide è a luglio se dovessimo aggiornare ad oggi ne dovremmo aggiungere altri di 30 di nulla richiesti di autorità giudiziaria e di permessi ottenuti quindi sono veramente alti ora vi porto invece in Veneto diciamo quelle che sono i dati del Veneto noi stiamo curando molto di più rispetto al passato la repostistica e stiamo cercando di fare una raccolta dati che sia un po' più diciamo organizzata perché il grosso problema anche quello che ci viene contestato poi dal Greta dell'Italia è la raccolta dati la raccolta dati lascia un po' a desiderare perché veramente talvolta e poi vi dirò sullo sfruttamento lavorativo emerge anche di più noi abbiamo la fotografia che noi stiamo destituendo è una fotografia parziale sia rispetto alle questioni dei permessi di soggiorno sia rispetto al fenomeno perché negli anni fa torno indietro sulla slide scusate su questa slide qui qui ad un certo punto accade qualcosa nel 2020 2019 emergono più vittime più persone che provengono dall'asfruttamento lavorativo però bisogna anche dire che in quegli anni sono stati finanziati dei progetti a supporto è stato finanziato Alt Caporalato Supreme diagrammi dei grossissimi progetti con i fondi AMIF con fondi FAMI con delle ingenti anche con ingenti finanziamenti quindi progetti che vedevano coinvolte rispettorati appunto dei lavori territoriali con l'OIM con con la cooperativa Enova quindi come dire soggetti che hanno collaborato poi con anche con l'ente antitratta questo ha fatto sì che ci fosse più attenzione diciamo per queste tipologie di sfruttamento e per cui secondo me non è casuale che a un certo punto sono anche aumentate diciamo le emersioni certo Marco tu mi guardi così si può fare sempre meglio si può fare sempre meglio si pescare bene con i fondi con più fondi forse con una nave piuttosto che con un rimorchiatore si pesca meglio oppure con la giusta formazione si pesca meglio perché secondo me quello che probabilmente va ancora c'è tanto lavoro da fare sulla formazione e quando dico formazione intendo non solo formazione degli operatori che lavorano sulla tratta ma anche degli operatori che lavorano nei sistemi della protezione internazionale perché per esempio nei SAI cioè chi diciamo accede a un permesso di soggiorno per casi speciali può accedere nei SAI va bene ma i SAI sono pronti sono preparati a lavorare con le persone che emergono da queste tipologie di sfruttamento cioè sono in grado di apportare tutta tutta quella quella giusta assistenza di cui parlavi tu prima cioè la possibilità di assistere in sede penale cioè di individuare quel tipo di assistenza in sede penale e in sede civile io non ho una risposta veramente io so ho fatto anche un'autocritica sul sistema tratta non credo neanche che tutti i sistemi antitrattano siano in questo momento figuriamoci i SAI che non ce l'hanno come mandato per cui questo è un lavoro che sicuramente andrà sviluppato nei prossimi anni ecco quindi ero tornata qui indietro perché mi era sfuggita poi volevo dire appunto che avevamo queste progettualità alcune ancora in essere non sono ancora chiuse di cui che hanno contribuito all'aumento diciamo del numerico dell'emersione delle persone vittime di tratta e sfruttamento che provengono dallo sfruttamento lavorativo eccoci qua Benetton ora questi sono i numeri recentissimi del progetto navigare in questo momento questo numero 344 per noi sono le valutazioni quelle che vi dicevo prima le persone che noi incrociamo le persone a cui noi diamo almeno un'informativa rispetto a quello al momento che stanno vivendo certo che poi tutte queste persone non entreranno in un programma sono persone che quantomeno hanno tenuto una prima sicuramente tutte hanno tenuto una primissima informativa abbiamo ritenuto all'interno del progetto per esempio di aumentare anche numericamente la figura dell'operatore sociolegale attualmente siamo 3-4 colleghe operatici sociolegali che lavorano in diciamo in sinergia con gli operatori territoriali per far sì che tutte le persone abbiano un'informativa sociolegale tempestiva anche quelle persone che magari come delle meteore vediamo solamente il tempo diciamo di un colloquio e poi diciamo non le vediamo più come minimo a queste persone viene fornita un'informativa di base e viene rilasciato il numero verde nazionale antitratta perché magari non è quello al momento di criticità rispetto all'emersione ma lo potrebbe potrebbe vedere nei mesi negli anni successivi qui ci sono ecco qui ci sono i numeri che dicevo prima rispetto alla nazionale noi abbiamo una peculiarità sono 180 le persone che abbiamo incrociato rispetto all'assolutamento lavorativo rispetto all'assolutamento sessuale ora anche questi dati vanno spiegati c'è da dire che negli ultimi due anni post pandemia le presenze per esempio in strada si sono completamente quasi azzerate cioè noi abbiamo pochissime presenze in strada di persone che si prostituiscono molta dell'attività si è spostata nell'indoor tant'è che anche il Greta nell'ultimo sempre gli esperti nell'ultimo loro report come dire sollecitano i paesi a lavorare sul digitale e a provare a fare appunto delle progettazioni che prevedono di lavorare sempre in quelle azioni proattive però con il digitale perché anche rispetto all'assoltamento sessuale molta dell'attività si è spostata sul web ok e da lì anche il dark web piuttosto ok quindi diciamo che questa ripeto questo grafico va proprio spiegato cioè non vuol dire che ci piacerebbe dirlo ma non è così che l'assoltamento sessuale sia in calo perché non ci sono più vittime ma incrociamo meno vittime noi in questo momento tant'è che ci stiamo comunque attrezzando e c'è tutta una parte del nostro servizio che sta lavorando anche la costruzione di una app specifica che ci aiuta a contattare le persone che si postuiscono nell'indoor e che per cui sono un po' invisibili rispetto a come eravamo abituati a lavorare in passato ecco qui abbiamo le potenziali diciamo vuol dire che in questo lasso di tempo non siamo ancora riusciti a finalizzare l'identificazione perché i dati sono del cui e ora queste 51 persone probabilmente tra un po' di tempo rielenteranno in queste categorie o ne rimarranno fuori perché magari erano delle potenziali vittime sono state identificate in maniera precoce e non sono entrate in nessuna di questa categoria e le economie legali forzate è quello che vi dicevo prima e abbiamo sviluppato quest'area diciamo del che va ad intercettare i minori e i maggiorenni nell'area penale quindi abbiamo un partenariato ormai di qualche anno con il PM che è l'Istituto Penale Minorile di Treviso e l'USM che è il Servizio Sociale per i minorenni e tutte quelle strutture di accoglienza per minori che possono diventare dei segnalatori rispetto a queste situazioni altro fenomeno di cui purtroppo devo dire non se ne parla tantissimo ma c'è sono le diciamo le rivittimizzazioni soprattutto delle donne nigeriane che durante il lockdown non sono riuscite a pagare tutto il debito e sono state come dire spostate dalle reti criminali nelle economie legali forzate cioè che sono state come dire in qualche modo usate come ovulatrici come trasportatici di sostanze superfacenti anche anche in ambito trasnazionale quindi cosa vuol dire che noi abbiamo molte donne in questo momento le commissioni anche lo sanno che ci vengono segnalate oppure che noi intercettiamo che non sono solo vittime di tratta ma sono anche autrici di reato e di reati anche abbastanza gravi perché il reato di detenzione spaccio internazionale di sostanze superfacenti sappiamo che prevede delle pene veramente severe per cui un lavoro che in questo momento stiamo cercando di fare anche con Argi anche nell'ultima pubblicazione che è online interessantissima c'è un capitolo che parla di questo e di come appunto è importante attenzionare e fare una valutazione a 360 gradi qui abbiamo sì qui parlo sempre del Veneto e delle tipologie di diciamo di sfruttamento è un grafico che riprende quello che vi dicevo prima quindi il lavorativo ha superato il sessuale non ci era mai capitato in 20 anni di lavoro ma in questo momento è così cioè abbiamo molte più immersioni e prese in carico nei progetti di persone che provengono dallo sfruttamento lavorativo a differenza del passato si spiega anche velocemente questa cosa cioè un po' vi ho spiegato perché del sessuale abbiamo meno emersioni sul lavorativo ci stiamo concentrando cioè abbiamo destinato una una considerevole fascia di operatori nel lavoro multiagenzia con gli spettorati del lavoro con lo spizal con tutti quei soggetti che fanno gli accessi lavorativi è un lavoro completamente diverso da quello che siamo stati abituati diciamo a fare rispetto alle altre tipologie di sfruttamento per cui è completamente cioè questa cosa chi lavora nell'antitratta lo deve proprio capire cioè non si possono mutuare i medesimi no accorgimenti expertise che si usavano appunto per chi diciamo emergeva dallo sfruttamento sessuale per il lavorativo e la formazione è completamente diversa è una formazione che va costruita continuamente io oggi ho preso cinque pagine di appunti dall'intervento di Marco Paggi che pure conosco da moltissimi anni però non si finisce mai di imparare ci sono delle come dire sempre delle suggestioni importanti quindi una sicuramente una di quelle settori importanti è quella della formazione quindi chi lavora nell'emersione non può che deve assolutamente formarsi se questa formazione avvenisse in maniera congiunta con tutti gli altri attori che intervengono diciamo nell'emersione ecco che noi avremo diciamo un risultato esponenziale e ci stiamo lavorando per cui lo dico io sono scaramantica ma lo dico abbiamo di recente partecipato ad una progettazione di un PON con altre quattro regioni italiane che sono la Liguria l'Emilia Romagna il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte per partecipare ad un progetto che si occuperà speriamo solo di sfruttamento lavorativo e stiamo aspettando appunto che ci venga confermata e che si è resa proprio pubblica questa diciamo la concessione che ci dicono che il progetto può cominciare e se questa cosa accade ecco che noi potremmo veramente permetterci di fare questo salto di qualità e di pensare a una formazione diciamo un pochino più densa e più allargata con come dire la possibilità di poterci confrontare con altre regioni perché in questo caso la regione capofilia sarebbe il Piemonte e le altre regioni però diciamo tutte insieme avrebbero anche la possibilità di confrontarsi come? Multiagenzia assolutamente sì ecco questa diciamo è un po' la strutturazione generale di questo progetto ci sarebbe ancora tantissimo da dire ma io preferirei poi magari approfittare delle vostre domande per essere un po' più precisa su alcuni ambiti che vi interessano di più una cosa volevo aggiungere solamente se ho altri mi circondi che di recente di recente vuol dire marzo 2022 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la regione Veneto e la sezione specializzata di Venezia che voi come sapete è distrettuale per l'identificazione delle vittime di tratta all'interno diciamo di quelli che sono i procedimenti che è il tribunale diciamo valuta e per noi è un protocollo importantissimo perché ha come due due sezioni una è quella che conosciamo di più che è quella diciamo di identificare un po' come avviene per le commissioni territoriali quei fascicoli dove ci sono delle situazioni che vengono rilevate come situazioni diciamo dove ci sono indicatori di tratta e sfruttamento e poi la seconda parte invece prevede proprio con l'entrata degli UPP che sono questi nuovi funzionali che sono entrati nelle commissioni nei tribunali per velocizzare alcune pratiche che erano diciamo indietro la possibilità che noi abbiamo come progetto anche attraverso la collaborazione con soprattutto gli avvocati che fanno riferimento a ASG a CAIT ma senza anche chi non appartiene a queste sigle di dare priorità ad alcuni fascicoli cosa vuol dire lo dico qua approfitto di questa platea per poterlo dire nel senso che se un avvocato o un avvocata sta seguendo una persona che è incontenziosa e rileva che ci sono degli indicatori di tratta ce lo può segnalare ce lo segnala noi possiamo con l'avvocato o con l'avvocata anche come dire chiedere che il fascicolo venga come dire a questo fascicolo venga data priorità qualora ci fosse un'udienza nel 2025 faccio un esempio e questo è una anche questo è un importante passaggio del protocollo che se volete lo trovate sul sito nel burro della regione Veneto credo che sia stato pubblicato anche sull'osservatorio del numero verde nazionale anzi tutti i dati che io vi sto dando e anche tutta una serie di report interessanti li potete trovare sul sito dell'osservatorio tratta del numero verde io in realtà se volete potrei anche fermarmi qui e rimettermi un po' alle domande e grazie anche agli organizzatori che non avevo fatto prima grazie è stato molto interessante soprattutto tutti i dati che ci hai fornito perché danno un po' una dimensione anche se parziale di quella che è la realtà e anche un po' un senso a quello che è stato il primo intervento diciamo dal punto di vista normativo allora io lascerei quest'ultimo spazio per le domande sia da parte di chi è qui in presenza che non so se ci sono domande o curiosità da chi ci sta seguendo da remoto io da un paio d'anni collaboro con la commissione territoriale di Padova che appunto è stata nominata tante volte le commissioni in generali su nomina UNHCR e diciamo che in questi due anni il fenomeno dello sfruttamento lavorativo l'abbiamo visto emergere in maniera molto 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 grande con delle nazionalità specifiche però insomma che appunto sono state nominate e la difficoltà e la parte anche abbastanza frustrante per il mio ruolo è quello di riuscire a far emergere questo sfruttamento e far venire in luce quello che sta succedendo quello che stiamo cercando di fare ed è una piccola prassi che spero abbia un futuro è quello di visto che le persone spesso e volentieri arrivano con un contratto di lavoro non è che manchi il contratto di lavoro il contratto c'è è quello che c'è dietro a quel contratto che è interessante sarebbe interessante capire ecco quello che stiamo cercando di fare è di tenere una sorta di traccia di determinate aziende che ritornano di datori di lavoro che ritornano e anche spesso di cooperative agricole e tramite la prefettura fare una segnalazione all'ispettorato del lavoro e ecco mi chiedo se col ruolo che abbiamo noi se ci sono altre cose appunto sicuramente formazione collaborazione multiagenzia però appunto se ci sono altre indicazioni ben volentieri le ascolto e speriamo di poterle mettere in pratica non so se ci sono altre domande se intanto vogliamo ok se ci sono altre domande le raccogliamo e poi se intanto non ce ne sono altre magari si perché mi sembra ma tanto per cominciare tutti i componenti anche singolarmente individualmente della commissione sono pubblici ufficiali e questo è certo e proprio perché i pubblici ufficiali avrebbero uso condizionale solo per per simpatia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria ogni notizia di reato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni quindi se uno dice io sono vittima di sfruttamento lavorativo perché o sono assunto in nero o sono comunque sfruttato o minacciato o comunque sono pagato una miseria eccetera questa è una notizia di reato indipendentemente dal fatto che sia più o meno circostanziata poi è chiaro che non sta l'operatore il componente della commissione di torchiare l'interessato per cavalli fuori anche se al tempo stesso sarebbe suo compito verificare anche d'ufficio quindi promuovendo le domande e i chiarimenti senza bisogno di attendere l'iniziativa dell'interessato verificare se sussistono circostanze rilevanti al di là dell'eventuale procedimento penale che potrà scatturirne parallelamente ma rilevanti ai fini della valutazione della condizione di vulnerabilità o comunque circostanze rilevanti ai fini della protezione internazionale o della cosiddetta protezione speciale ecco quindi ci sta tutto che i componenti della commissione entrino mani e piedi nella valutazione nella verifica di queste circostanze che anzi operino proattivamente per favorire la tranquillità serena cooperazione e anzi per motivare l'interessato a esporre le circostanze che in realtà lo interessano quindi chiaro che la realtà più dal punto di vista anche quantitativo più diffusa non è quella del lavoro totalmente nero e non è nemmeno quella del lavoro che impiega persone chiaramente irregolari dal punto di vista del soggiorno ormai il sistema più diffuso perché anche quello più facile da difendere cioè quello che espone meno a rischi gli sfruttatori gli utilizzatori e tutti è quello del lavoro grigio fortemente grigio ma grigio cioè un pezzo di carta di contratto di lavoro un pezzo di unilab di comunicazione obbligatoria di assunzione c'è sempre in agricoltura poi addirittura non c'è nemmeno la necessità di vincolarsi ad un orario di lavoro preciso anche se ridotto rispetto al reale perché tanto nell'agricoltura si lavora di fatto a chiamata e quindi sappiamo che normalmente un'azienda una pseudo azienda agricola nel senso che ci tratta della classica cooperativa senza terra che però svolge formalmente attività agricola applica formalmente il contratto collettivo per i lavoratori agricoli assume una persona al di là il fatto che poi la firma del contratto e la consegna di copia del contratto possa costituire o meno oggetto di mercimonio per avere comunque rinnovo il soggiorno piuttosto che e poi decide di denunciare una manciata di giornate ovviamente di gran lunga e inferiore al reale con il doppio danno perché poi la prassi ormai è fin troppo costante ci sono differenze di tariffa perché il costo della vita e le condizioni complessive del mercato sono un po' diverse per cui a Foggia pagano 4 euro e a Pernumia ne pagano 5 ecco la differenza poi è tutta qua c'è un po' più di paga perché costa un po' di più la vita o perché le condizioni del mercato sono diverse anche se poi comunque con tendenza a ribasso perché più aumenta l'offerta ai lavoratori disponibili più naturalmente il loro potere contrattuale si abbassa dopodiché il danno è uno che la retribuzione pattuita i 5 i 4 euro l'ora è quella e comprende tutto ciò che il lavoratore riceverà cioè riceverà una parte di quella attribuzione una parte minoritaria in bianco come da busta paga e quella serve per gli ispettori e una parte invece in nero però la somma del tutto darà comunque 4 o 5 euro l'ora ma soprattutto un'altra componente del danno è data il fatto che denunciando una quantità di giornate notevolmente inferiore al reale si fa sì che normalmente i lavoratori non raggiungano nemmeno condizioni minime di occupazione per avere la disoccupazione agricoltura fra l'altro siccome accennavo in premessa che in base all'articolo 2116 del codice civile e le norme conseguenti il lavoratore avrebbe diritto a tutte le prestazioni previdenziali connesse alla effettiva entità della sua prestazione lavorativa un lavoratore che riuscisse a dimostrare le giornate di lavoro effettivo potrebbe anche rivendicare il pagamento della disoccupazione agricoltura sono cose che come dire iniziative di tutela che sono talmente defatiganti che spesso sono tralasciate perché aspetto di dimostrare quanto lavoravo aspetto gli esiti in procedimento penale che per iniziare aspetta gli esiti in un accettamento ispettivo che ha dei tempi non facilmente tollerabili da un normale essere umano salvo casi fortunati e con tutta la buona volontà di tutti i miei tempi sono questi quindi aggiungiamo i tempi di accettamento ispettivo a parte il periodo di riflessione iniziale che pure è considerato anche quello perché prima che uno si decida di denunciare ci vuole anche il suo tempo poi aggiungiamo i tempi di accettamento giudiziario e successivamente dovremmo immaginare gli ulteriori tempi per chiedere all'Inps che intanto dirà di no e poi fare un ricorso un ricorso giudiziario anche lì prima un ricorso amministrativo poi un ricorso giudiziario per accertare il diritto ad avere l'initaggio di occupazione dell'agricoltura di ormai quanti anni fa quando si spiega a un lavoratore che il suo problema non potrà essere risolto subito ma che facendo questo questo o quell'altro con un po' di fortuna tanta pazienza si avrà un problema una soluzione probabilmente mai sicuramente fra 8 anni lui ti dirà e ha capito benissimo ho capito il mio problema non si può risolvere ecco e il lavoro grigio è la parte preponderante di tutto questo e comunque resta fermo che se un lavoratore viene in commissione e dichiara di essere impiegato in agricoltura di avere 10 giornate denunciate e 150 fatte pagate come abbiamo detto quella è una noticia di reato chiaramente chiaramente anzi diciamo starebbe alla commissione già dirgli guarda che tu hai diritto a essere tutelato e non solo per quanto riguarda il nostro adempimento ma anche per quanto riguarda i tuoi interessi patrimoniali per quanto riguarda la tua commissione di soggiorno eccetera e quindi sappi che noi comunque trasmettiamo all'autorità giudiziale e quello che io come avvocato non potrei fare come dicevo prima se un cliente mi dice un assistito diciamo mi dice che lui non vuole denunciare io mi devo tenere tutto per me posso parlare di casi astratti in occasione come questa ma non posso dire di chi si tratta men che meno denunciare perché sarebbe una chiara valorazione gli operatori della pubblica amministrazione o del privato sociale invece questo vincolo non ce l'hanno gli operatori del privato sociale conservano la libertà di stabilire se dal punto di vista della loro teotologia professionale sia opportuno o meno denunciare gli operatori della pubblica amministrazione non avrebbero questa scelta è pubblico ufficiale come gli altri tanto quanto lei è designata ma compone un organo collegiale che è fatto di pubblici ufficiali tutti quanti volevo solo aggiungere una cosa una cosa interessante che sta accadendo nell'ultimo periodo è che si sono risvegliate le consulte verso le prefetture sono l'immigrazione allora devo dire che c'è un'esperienza virtuosa che in questo momento su Treviso che attraverso un residuo di un progetto FAMI è istituito un progetto che si chiama Treviso Network che è un vito a guardare e diciamo che è un progetto che tiene in seno proprio all'interno della prefettura ma della commissione uno sportello che dove le persone possono essere inviate immediatamente quando fanno presente che c'è questo tipo di situazione io trovo che sia molto interessante perché il tempo poi è importante cioè noi abbiamo anche persone che sono all'interno di strutture di raccoglienza vabbè certo non sono le più virtuose ma strutture di raccoglienza e contestualmente vanno in commissione e poi ci raccontano che sono sfruttate all'interno cioè pur vivendo nella struttura di raccoglienza per cui con la commissione di Padova invece in particolare stiamo invece provando a mettere insieme delle informazioni ma come osservatorio su delle rotte nuove penso al Marocco e tutto l'arrivo delle canarie e sta venendo fuori anche una cosa molto interessante che poi andrà condivisa con chi di dovere per cui ottimi gli osservatori per questo lo dicevo prima insomma con le commissioni le commissioni sono degli ottimi collaboratori per gli osservatori a proposito di un altro osservatorio a proposito di un altro possibile osservatorio io ho constatato che succede spesso uno dei casi emblematici era quello dei due fratelli di Correzola che qui accennavo prima si attinge alle quote per lavoro stagionale in maniera sistematica e in gran numero anche in evidente eccesso rispetto a quello che all'effettivo fa bisogno l'agenda agricola e questo spesso si spiega col fatto che nel paese di origine ci sono dei facendieri che vendono a prezzo carissimo e parallelamente anche contraendo un debito molto spesso vendono l'opportunità di ingresso dalla porta principale con tanto di visto di ingresso che voglio dire se provate a immaginare quanto costa entrare regolarmente immaginate quanto di più può costare entrare dalla porta principale e spesso questi lavoratori vengono anche ingannati perché non gli si spiega che avranno un soggiorno per lavoro stagionale che ha una durata limitata che non potrà essere innovato gli si dice ti do la possibilità di andare in Italia per lavorare in regola poi appunto arrivano qui e vengono impiegati se va bene per una manciata di giornate o addirittura nemmeno per quelle perché poi la funzione del datore di lavoro non è quella di farli lavorare o di soddisfare un proprio bisogno effettivo ma quella di gestire un traffico che è lucrativo se poi non solo per una volta e quindi in un'annualità ma per diverse annualità successive questo meccanismo continua a funzionare ci sarebbe da dire ma scusate caro ufficio preposto a rilascio del nulla osta non avete per caso verificato che quel signore esattamente l'anno prima aveva chiesto altrettanta quantità di persone che poi risultano impiegate per una manciata di giornate ecco e di fatto gli sportelli unici per l'immigrazione non attingono non possono al momento attingere i dati unilav delle denunce delle giornate lavorative quindi questa verifica che in realtà dovrebbe essere attivata da un allarme automatico di un software semplicissimo non viene fatta e quindi questo giocattolo continua spesso a funzionare e a divertire chi lo utilizza ecco uno degli elementi di monitoraggio più banali sarebbe questo fare un'analisi per così dire un termine moderno un'analisi spettrale dei dati relativi alle assunzioni per lavoro stagionale incrociandoli banalmente con i dati delle giornate lavorate e dei contributi versati sarebbe molto interessante sì allora ci sono alcune domande da chi sta seguendo la formazione online e quindi le faccio tutte e tre poi decidete voi chi risponde la prima domanda è in realtà rivolta alla dottoressa di Bari e quindi rispetto al rapporto ASGI che ha citato durante l'intervento se può ricordare qual è il titolo c'è un'altra questione legata al ruolo dei sindacati quindi nell'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo e un'altra domanda invece è legata riprende la risposta di prima dicendo io faccio lo stesso lavoro quindi sono operatrice e ho il sospetto che ci sia una restituzione di parte del bianco quindi della retribuzione nel senso che nella sua esperienza ha visto contratti dignitosi in agricoltura con importi oltre mille euro e tredicesime ma poi nelle domande pare che richiedente abbia a disposizione sempre meno soldi quindi chiedeva se è possibile se conoscete questo fenomeno l'ultima missima domanda che è arrivata proprio adesso è più una questione che una domanda coordino diversi CAS e sai in Emilia Romagna dove moltissimi ospiti soprattutto in zone specifiche di nazionalità specifica Bangladesh Pakistan in particolare sono impiegati in agricoltura con contratti base da 20 giornate l'anno anche se di fatto lavorano oltre 40 ore settimanali fino alle 60 in alcuni casi questi impieghi nella maggior parte dei casi sono procurati da connazionali residenti in loco da anni che si pongono di fatto come intermediatori per non dire caporali le questioni che si pongono sono due la prima è la scarsa percezione da parte degli ospiti del fenomeno che vivono come forma di sfruttamento proprio perché come diceva l'avvocato Paggia all'inizio spesso si reputano amici o fratelli la seconda invece è data dal fatto che spesso ritengono conveniente una forma contrattuale del genere poiché da luogo a basse buste paga che gli consentono di permanere in accoglienza quindi siamo nell'esatto contrario rispetto all'altro fenomeno qualora dovessero essere inquadrati in maniera regolare supererebbero infatti la famosa soglia dell'assegno sociale che implica la perdita delle misure accoglienza questo aggiungo non è un fenomeno che viene rilevato solamente in Emilia Romagna ma ad esempio in Trentino è abbastanza noto per esperienza ripeto la questione che chiaramente si chiama estorsione noi in molti procedimenti poi Marco lo potrà dire meglio di me abbiamo assistito a queste forme di restituzione di denaro una volta proprio un signore pakistano è proprio arrivato in colloquio con un foglio a quattro con un post-it giallo dove c'era scritto restituire alla signora Chiara e non ha detto ma Chiara la signora Chiara ha detto no la segretaria e qui c'è scritto e poi con i movimenti le forze dell'odine non noi perché ognuno fa il suo mestiere si sono accorti che in corrispondenza chiaramente delle sue buste paga c'erano delle uscite dal post dal loro bancomat di una somma sempre la stessa che veniva restituita la signora Chiara e che questo ce l'ha proprio mostrato sul post-it quindi il reato di estorsione io credo che è uno dei reati più contestati quando c'è anche diciamo lo sfruttamento quindi sì in effetti sì su questa sulla questione dei CAS devo dire che io penso che se una persona venisse retribuita in maniera assolutamente adeguata forse non avrebbe nemmeno bisogno di stare in accoglienza e che quindi queste forme cioè è un po' pericoloso far rispondere il fatto che in qualche modo la persona accettino di essere pagate meno per oppure insomma di accettare uno stipendio minore pur di stare in accoglienza secondo me no perché poi purtroppo sempre più spesso le accoglienze di queste persone avvengono in questi centri dove si fa accoglienza di massa ed è davvero un'accoglienza una brutta accoglienza non è sicuramente un'accoglienza dignitosa noi abbiamo dei casi anche questi molto vicini a noi per cui sì può succedere però noi non l'abbiamo registrata con una casistica molto alta per il resto nessuno mi ricordo se posso subentrare anche la questione abitativa diciamo sul problema abitativo su cosa sì beh innanzitutto la trovano nel sito ASI nel sito ASI è stata divulgata ed è disponibile gratuitamente disponibile online quindi la trovano di sicuro per quanto riguarda il trucchetto della restituzione o meglio dell'estorsione di parte del denaro tramite il banco ma è ormai un trucco vecchio e quindi anzi la tracciabilità delle operazioni tutte eseguite nell'immediatezza del pagamento della busta paga permette abbastanza facilmente anche di dimostrare la responsabilità penale degli autori dell'estorsione se poi appunto la denuncia si fa perché qualche sindacalista poco avveduto di fronte a situazioni di questo genere preavvisa involontariamente l'azienda facendo la classica lettera di diffida eccetera invece in questi casi bisogna stare buoni e zitti fare la denuncia promuovere indagini con le presentazioni gli accertamenti che sono volta per volta opportuni e poi agire contro l'azienda nel frattempo acquisendo le prove di ciò che poi si va a sostenere ma è relativamente facile quindi come dire dimostrare questo meccanismo estorsivo quello che ancora non mi risulta sia stato chiarito è se in una situazione di questo genere si possa o meno invocare la responsabilità solidale del comitente che parliamo di gente che lavora sempre in appalti che sia in agricoltura o nelle cooperative o nella logistica per un meccanismo di questo genere è venuto fuori anche qui all'interporto di Padova quindi una botteghetta piccolina insomma un'evasione contributiva paragonabile a una manovra economica regionale e un sistema estorsivo sistematico appunto di parte delle retribuzioni ufficialmente regolari ma appunto drenate in questa maniera per così dire ruspante quello che invece mi tratta di capire è se si possa sostenere che in un caso di questo genere il lavoratore che prima ha ricevuto i soldi mediante bonifico ma poi poco dopo è costretto a restituire una parte al formale datore di lavoro se in questo caso si possa ritenere che il lavoratore non è stato pagato interamente e quindi può far valere la responsabilità solidale del comitente quindi chiedere la differenza che lui ha restituito tra virgolette alla cooperativa in questo caso chiederla direttamente al comitente perché poi quando queste cose si dipannano nella realtà normalmente prima di arrivare alla fine ai procedimenti giudiziari la cooperativa del caso si è già evaporata e quindi non ha più niente da perdere quindi per andare al concreto è solo dal comitente che si può tentare di recuperare qualcosa e quindi dare anche un segno di una percezione di utilità pratica al denunziante questo non l'ho ancora sperimentato io sono portato a ritenere che la responsabilità solidale valga come diritto sostanziale se il lavoratore non è pagato adeguatamente indipendentemente agli artifici e raggiri che il datore di lavoro formale è scogita per non pagarlo correttamente la differenza fra quanto ha ricevuto e quanto gli è dovuto e quanto ha maturato effettivamente gli deve essere data ciò nonostante e comunque dal comitente d'altra parte il comitente ha tutta la possibilità e avrebbe non a caso l'onere la responsabilità di verificare le condizioni di lavoro del personale dell'impresa patatici perché deve sapere che è responsabile in solito tanto per le paghe quanto per i contributi quindi ritengo che anche nel caso di questi escamotasi si possa sostenere la responsabilità solidale del comitente ed anzi in questo caso abbiamo un elemento di prova in più perché abbiamo l'esatta quantificazione delle differenze salariali dovute e non effettivamente pagate perché è l'estratto conto di Bancomat per dirla in parole povere sul ruolo dell'operatore sindacale allora sindacato vuol dire migliaia migliaia di persone distribuite in diverse organizzazioni sindacali fra l'altro anche con linee politiche poco o tanto diverse nel territorio quindi in aree del territorio che hanno anche connotazioni diverse e devo dire per quanto riguarda la mia esperienza insomma il sindacato è sempre più sensibile rispetto a queste problematiche anche perché insomma impatta sempre di più con categorie lavoratori sempre più contrassegnate da nazionalità extracomunitaria eccetera e poi dal dire che è sensibile interessato al dire che ha la capacità di affrontare e risolvere questi problemi e ci passa parecchio ma anche perché effettivamente voglio dire il sindacato nasce non è strutturato per essere un organo di ispezione polizia non ha neanche poteri cioè cosa può fare il sindacato di fronte a situazioni di questo genere quando va bene chiama l'avvocato e l'avvocato dice beh facciamo una denuncia vediamo parliamo con il lavoratore se il lavoratore è disponibile a denunciare eccetera e diversamente se il lavoratore alla fine si risolve a non denunciare l'avvocato può dire soltanto io non posso denunciare niente quello che hai saputo puoi decidere se fare un esporto all'autorità giudiziaria o meno e la cosa si ferma lì purtroppo però voglio dire non è che il sindacato ha la bacchetta magica gli strumenti che ha sono l'avvertenza del lavoro civilistica che ha i suoi tempi che ha i suoi problemi di prova la denuncia penale che ha i suoi tempi i suoi problemi di prova la denuncia di spettorato del lavoro prodromica la denuncia penale che ha i suoi tempi mi vorrebbe da dire ancora più lunghi eccetera ed è questo quello che si può fare purtroppo il problema per cui la legge 199 l'articolo 603 del codice civile funzionano poco ed hanno dei risultati che toccati con mano sono in quantità esigua rispetto alla dimensione del fenomeno è un problema non di struttura della norma la norma c'è potrebbe essere migliorata su tantissimi aspetti ma c'è il problema è chi la applica con quanta intensità con quanto dispiego di risorse con quanta convinzione ecco perché questo riguarda tutte le categorie istituzionali che sono coinvolte se la vulgata che sta passando sempre di più non sempre di meno ma sempre di più è quella per cui ma cosa vogliono questi qua che già li abbiamo lasciati arrivare che già li abbiamo lasciati stare qua li abbiamo anche dato da mangiare da dormire adesso hanno anche un lavoro e vanno ancora in cerca di storie questa è la vulgata più diffusa ed è diffusa anche negli ambienti istituzionali ragionamenti di questo genere più o meno espliciti li troviamo rappresentati anche in appartenenti alle forze dell'ordine e persino all'apparato giudiziario quindi credo che il problema vero sia più questo che non ecco poi per quanto tornando per un attimo al sindacato anche lì e io posso dire che insomma ho visto organizzazioni sindacali impegnarsi seriamente su questo nei limiti delle loro umane e finanziarie possibilità destinando personale che dovrebbe fare dieci altre cose diverse invece a occuparsi quasi esclusamente di seguire i casi di sfruttamento lavorativo che portano via tantissimo tempo se voi provate a immaginare cosa vuol dire ascoltare che so venti persone per parlare di numeri piccoli tutte con l'interprete tutte non dico reticenti ma difficili da trattare che arrivano lì con informazioni istruzioni delle più varie fonti e qualità e sviscerare uno per uno la loro storia e poi preparare una denuncia ed è appena cominciato e poi andare a vedere se gli ispettori hanno fatto il loro lavoro e tentare di avere delle risposte non ve la faccio lunga perché andiamo a dopo pranzo e quindi dopodiché esistono anche realtà e realtà diverse a me è stato raccontato ma prendetelo come una favola che mi hanno raccontato che in una determinata zona della Calabria se un sindacalista pure molto sensibile alla materia vuole occuparsi di questa cosa il giorno dopo che qualcuno capisce che si sta occupando con un minimo di serietà di queste vicende non riceve nemmeno una minaccia riceve una chiamata da un familiare e il familiare gli dice tu lo sai magari si tratta del suocero che io ho un'officina di carrozzeria guarda che mi hanno detto che io non lavoro più se tu ti comporti così cioè non occorre neanche arrivare alle minacce cioè è la pressione psicologica per modo di dire intorno all'intero nucleo familiare che induce quella persona anche animata ai più buoni intenti prima ancora di arrivare a rischiare la propria incolumità a tralasciare queste cose e occuparsene solo formalmente ma senza incidere d'altra parte teniamoci io ho fatto qualche gita nei posti dove c'è lo sfruttamento più intensivo più tradizionale diciamo quei postacci li ho girati quasi tutti il ranghetto di Gnano Garganico tre titoli tutta la Baia Domizia vittoria a Rosarno c'è il campo allestito dalle istituzioni la tendopoli allestita dalle istituzioni quella ufficiale per i braccianti poi c'è una strada sterrata al di là c'è il campo quattro volte più grande cinque anche non ufficiale dove intanto succede qualche incendio un po' di tutto che è una baraccopoli non è una vera è proprio baraccopoli in mezzo c'è questa strada su questa strada ho visto io sono stato più di una volta furgoni di forze dell'ordine delle varie forze dell'ordine con presenti tutte le forze dell'ordine rappresentate quindi equipaggi non striminziti presenti sul posto per presidare la situazione parcheggiati a fianco a questi furgoni delle forze dell'ordine sono i furgoni di caporali si vede perché sono bianchi furgoni le forze dell'ordine non sono bianchi e si vedono i caporali che vanno avanti indietro caricano scaricano uomini ecco c'è demica niente per come la vedo io ingenuamente probabilmente quella è una notizia di reato a cielo aperto è lì che si sta producendo continuamente il mandato delle forze dell'ordine evidentemente è solo quello di tutelare l'ordine cioè intervenire se ci sono tafferugli morti feriti probabilmente ma sta di fatto che è una situazione talmente evidente che chiedersi perché nessuno interviene sembra quasi ridicolo quindi questo per dire che anche il sindacalista a seconda di dove si trova è messo nella condizione con tutta la prima volontà di operare molto diversamente non ci sono più domande io potrei rimanere qui a parlare con voi fino a domani ma siamo ampiamente fuori orario quindi dobbiamo salutarci io vi ringrazio sono state tre ore dense adesso lasciamo un po' sedimentare tutte le informazioni e i casi pratici che ci avete portato e la giornata non finisce qui perché abbiamo un altro talk questo pomeriggio che comincia alle 14.30 per chi ci volesse seguire e sarà trasmesso in streaming sul sito di Melting Pot e sui canali social grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.